Buongiorno, sono il padrone di casa, sono il rettore dell'università, Michele Bugliesi. Per una volta non è abbastanza raro, io introduco molti eventi, la maggior parte di quali non conosco nei contenuti qui, ho il piacere di introdurre i lavori su un argomento di cui mi occupo anche nella mia vita precedente di professore, di ricercatore, sono un informatico e l'evento è Cyber Security Last Call. Io voglio ringraziare BVTech, l'organizzazione, l'ingegnere Boccardo che rappresenta una realtà, quella di BVTech, importante e consolidata nel Parlamento e ne parlerà meglio evidentemente lui. Nel Management Consulting è tutto il settore ICT, dalla System Integration, direi Cyber Security, Business Intelligence, è tutto un comparto che è sempre più fondamentale nel Parlamento internazionale e nazionale. Ringrazio anche tutti gli altri speaker che si altereranno, il collega Zadero del Politecnico che è in arrivo da Milano, il dottor Mele che ci guarderà gli aspetti giuridici, il professor Foccardi qua della nostra Università e gli allumni per l'organizzazione dell'evento. Io volevo dire due parole su Caffoscari e su cosa facciamo noi in questo settore di Cyber Security, che è un settore che ha una sua valenza molto trasversale, molto multidisciplinare come dicevamo perché la sicurezza dei sistemi tocca diversi elementi anche sociali ma ha anche decisamente una componente tecnologica. Ora di questa componente Caffoscari si occupa da molti anni, da 15 anni e più è strutturato un piccolo grande gruppo direi di ricerca, piccolo dimensionalmente ma grande nei risultati. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di uno spretto di tematiche che vanno da tradizionalmente diciamo dai protocolli di sicurezza, le APIs, in particolare le APIs legate ai moduli hardware, i main security tokens per i quali abbiamo sviluppato, posso raffocarlo in particolare, tecniche di model checking per analisi, sono sistemi a stati finiti pur complessi ma per i quali è possibile fare un'analisi automatica della sicurezza nelle interazioni e per i quali è possibile dare certificazioni e lo abbiamo fatto con un certo successo sia dando certificazioni sia rilevando criticità in molti dei sistemi, alcuni dei quali possiamo rivelarli, altri meno, però diciamo abbiamo informato tutti i produttori con risultati che sono stati recepiti in modo importante nei migliori forum, più importanti forum internazionali, accademici e non. Ci occupiamo di web security sul lato client, negli ultimi anni ultimamente anche sul lato server diciamo è più difficile in qualche misura convincere chi produce ed è più, perché c'è un problema di legacy enorme, per cui diciamo il primo tentativo, cioè i primi tentativi li abbiamo fatto stati server e poi abbiamo realizzato, diciamo che quantomeno un minimo livello di protezione si può ottenere, cioè un minimo, si può ottenere un discreto livello di protezione anche sul lato client, abbiamo sviluppato tutta una serie di metodi e anche di prototipi per proteggere le sessioni di sicurezza, in sistemi, cioè rilevando anche una serie di voragini più che buchi nei sistemi esistenti, nei protocolli esistenti che si basino su cookies o altri sistemi apparentemente più solidi. Facciamo tutte queste, poi ci occupiamo anche di cloud evidentemente per gli aspetti di privacy anche legati alla privacy del cittadino, del singolo, del banco e dati, sia nell'analisi statistiche che sia nelle informazioni che possano essere rilasciate in modo inavvertito, per intrusioni inattese. Lo facciamo all'interno dei laboratori di ricerca, sul lato della formazione, in partnership, con partnership diverse, accademiche, secondo i canoni classici dell'Accademia, quindi dei progetti internazionali, alcune partnership anche sul lato del trasferimento tecnologico, siamo in partnership in particolare con l'Iria e con la spin-off CryptoSense che si occupa, ha portato come processo industriale alcuni risultati della ricerca sull'analisi automatica dei token, dei security modules e dei security tokens e poi ha esteso questo ad altri ambiti, sempre fondato su tecniche di model checking. Siamo parte del progetto filiera sicura con Cisco e Leonardo come partners industriali e con sapienza Politecnico di Milano, Torino, Napoli, Genova, Trento, Venezia e Lucca. All'interno del progetto, con tutte le imperfezioni di cui ci parlerà l'ingegnere Boccardo del sistema di sicurezza nazionale, negli ultimi anni c'è stato quantomeno un moto di consapevolezza dell'importanza con un input forte anche governativo, il progetto filiera sicura è promosso dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento dell'Intelligence, della Sicurezza che afferisce direttamente la Presidenza del Consiglio e è un progetto che coinvolge per appunto partner importanti e tutto il sistema nazionale in particolare il Cini Cyber Security Lab che è il consulato italiano dei laboratori di informatica presso le università e abbiamo poi i rapporti consolidati con l'associazione Isacca che è rappresentata qui nel chapter veneziano ma più in largo tutta l'associazione e poi altre partnership diciamo accademiche forse più puntuali, più consolidate anche perché abbiamo nostri ex studenti o colleghi a Vienna, un nostro dottorando di Riccardo, adesso è lì, la Technical University of Vienna è un gruppo molto importante, la stessa cosa a Southampton con Cyber Security Group a Southampton e varie altre. Sono tante iniziative che facciamo anche sul lato della formazione, si diceva prima quanto è importante attivare anche la consapevolezza dell'importanza del tema e la preparazione dei ragazzi. Qui abbiamo un gruppo che è stato anche qui, abbiamo una filiera di formazione che ha i programmi di informatica triennale, magistrali e dottorali all'interno dei quali si sviluppa un percorso articolato di Cyber Security, sia sul lato della criptografia, sia sul lato dei sistemi e quindi anche di tutti gli aspetti, una buona parte degli aspetti e con un tipo di formazione che è sia accademica classica e sia, è una parte importante perché raccoglie l'interesse entusiasta dei ragazzi di laboratorio e di sperimentazione delle tecniche attraverso anche l'attività di ethical hacking. Partecipiamo in particolare da anni a questi contest internazionali, competiamo allo stesso livello del Politecnico di Milano pur avendo dimensioni molto più piccole che devo dire, in termini, i nostri team, i cosiddetti cookies, sempre coordinati da Riccardo, insomma sono lì sempre col Politecnico, ogni tanto vengo con loro, ogni tanto vengo con loro, esatto, no lo dico senza, da due anni questa è la seconda edizione del Cyber Challenge che viene organizzato sempre dal Cini che è un contest rivolto ai ragazzi da 16 a 22 anni che è esattamente lo scopo di attivare la consapevolezza per questi giovani e poi distruirli per affrontare queste tematiche. Il nostro Marco Squarcini è uno degli allenatori del team, due nostri ragazzi sono sul team, sono stati, hanno partecipato all'ultima competizione e adesso abbiamo credo un centinaio di iscrizioni, stiamo facendo le selezioni in Italia, non so se abbiamo, siamo anche alla ricerca di chi voglia partecipare come partner, quindi siete benvenuti perché sia una cosa decisamente importante. Ho finito con il marketing di Carl Foscari che era, penso, dovuto e due parole sul titolo Cyber Security Last Call, non è un titolo a caso, diciamo conosciamo, sappiamo tutti qui certamente quanto è importante la sicurezza e bene o male siamo a diversi livelli consapevoli che l'Italia con puri passaggi interessanti che abbiamo fatto in questi ultimi mesi non siamo esattamente all'avanguardia, abbiamo un gap da riempire se non altro per il fatto che tutta la tecnologia, gli strumenti, le piattaforme sono non proprietarie, i nostri sistemi viaggiano, i nostri protocolli, i nostri dati viaggiano su sistemi che spesso, se non sempre, sono sviluppati da paesi terzi, non italiani, quindi questo qua ci mette leggermente in difficoltà su un asset che è ovviamente strategico per i cittadini, i singoli, per le imprese e tutti i loro processi e per la sicurezza nazionale complessivamente. Quindi abbiamo un problema in qualche misura e sostanzialmente il titolo riferisce a questo problema, è un problema che possiamo risolvere, lo possiamo fare con una nuova, più convinta strategia di partnership tra le accademie, i processi di ricerca e di formazione che noi conduciamo e i soggetti interessati e capaci di sviluppare le piattaforme come l'ospite che abbiamo qui oggi. E ecco, con questo auspicio che questo possa essere un esempio che poi si ripeta e in altre realtà e con altre università e per quanto attiene a noi che questo sia il primo passo di un percorso che poi continueremo nei mesi e negli anni a seguire, vi do il benvenuto all'incontro e vi ringrazio augurandovi una giornata a cui parteciperò almeno in parte come spettatore. Grazie. Grazie. La parola all'Effrede Boccardo che ringrazio in più per, diciamo, aver immaginato questo evento su una tematica così importante, il Presidente CEO di Vitec. Farei partire la... Buongiorno a tutti. Un ringraziamento agli alunni di CA Foscari che ci hanno dato la possibilità di organizzare questo convegno e un sincero ringraziamento al magnifico Rettore che ha voluto introdurre l'argomento con questa sua chiamata alla ricostruzione di una nazione che abbia processi, procedure e strumenti nazionali propri in un momento dove è così cruciale dotarsi di difese e sistemi di rimedio e di governo in senso generale della sicurezza delle informazioni. Io cercherò di introdurre una parte del ragionamento che è quella cosa comporta un dominio digitale così fantasticamente aperto come lo stiamo vivendo rispetto a sue vulnerabilità intrinseche che da un lato appunto ci consentono di lavorare come se fossimo nella stanza accanto con ogni paese del mondo e dall'altro ci espongono a dei rischi specifici. Questa è la scaletta che vorrei seguire. Terrei che alla fine di questo mio brevissimo intervento ci fossero alcuni concetti che rimangono con noi per sempre e sono concetti semplici riguardo da un lato la presa di coscienza che questo tema di rincorsa dell'opportunità rischio sui sistemi elettronici starà con noi per 50-70 anni e dall'altro se noi non ci dotiamo di capacità nazionali rischiamo di mettere a repentaglio la potenza della nostra nazione a 20-30 anni da adesso in senso assoluto. Non siamo in un dipartimento di ingegneria, tenevo che fosse molto chiaro a tutti noi prima di partire con i ragionamenti che cosa fosse questo cyberspazio. Cyberspazio sono l'insieme dei calcolatori, dei sistemi operativi che fanno funzionare i calcolatori delle reti che collegano i calcolatori e delle reti, delle reti, dei calcolatori che sono connesse tra di loro dei dati e delle informazioni che sono contenute in questi sistemi elettronici, hardware e software. Da molti anni ci si rende conto che la tecnologia elettronica rende possibile l'impossibile e dall'altro ci espone a rischi drammatici. Rimarrà a disposizione degli interessati la nostra presentazione perché non seguirò pedeseguamente i contenuti ma mi fa piacere che esista un discorso completo per chi volesse poi fare ulteriori approfondimenti. Quindi questo è il cyberspazio. Come si sono evolute le tecnologie? Questa è ancora la legge di Moore che vedete è ancora valida adesso ed è dal 65. Quindi cosa sono? Oltre 50 anni vale sia per l'hardware che per il software. La prestazione ogni 18 mesi raddoppia e la dimensione diventa la metà. Quindi uno dei principi su cui si è basato gli ultimi 50 anni di storia dell'elettronica è stato avere tutto miniaturizzato e sempre più potente. Non si è pensato ad avere l'elettronica intrinsecamente sicura. Qui vediamo che, e sono solo cenni, un sistema operativo che rende il calcolatore o un calcolatore come lo possiamo utilizzare ha circa 40 milioni di righe di codice. e una misura empirica del numero di errori presenti nel codice è un errore ogni mille linee. Quindi diciamo 40 milioni diviso mille fa 40.000 errori. Non tutti causano vulnerabilità, alcuni sì, di questi errori. e dunque siamo in un sistema davvero duramente penetrabile. Questo è un richiamo di una persona che è una fantastica persona, Weinberg, uno dei fondatori dell'IEEE. Dice, se i nostri ingegneri civili costruiscono i ponti e le città, così come i nostri ingegneri del software costruiscono il software, basterebbe un picchio che arriva e distruggerebbe l'intera civiltà. Per dare un'idea di quanto è vulnerabile un sistema elettronico. Ora i grandi del mondo stanno lavorando, non vogliamo stare così per l'eternità. Per rendere questi sistemi intrinsecamente sicuri la stima è 20 anni. Ovviamente sono stime che fanno i grandi leader e scienziati del mondo, con le grandi università del mondo. Il tema è che se lo risolviamo tra 20 e 30 anni, di avere macchine che controllano da se stesse di essere sicure, dopo il porting di tutti i sistemi, di tutte le applicazioni, e di tutti i sistemi di comando e controllo che sono nel mondo prenderà un altro tempo importante. Quindi si immagina che questa storia di inseguimento tra patch e vulnerabilità sia una storia che starà con noi per 50-70 anni. Ed è per questo, come ci ha richiamato il magnifico rettore di Ca' Foscari, che gli stati, istituzioni, università, imprese, insieme, devono darsi una linea di formazione da un lato e di presa in carico di una coscienza tecnologica importante per fare il massimo che si può. Questo è una, diciamo, e cosa dice l'MIT? Un consorzio di Computer Science and Artificial Intelligence di MIT e dice dobbiamo fare meglio di questo Patch and Pray Perimeter Protection. Tutto quello che facciamo, c'è una vulnerabilità, la inseguiamo, cerchiamo di metterla a posto e dopo preghiamo che la successiva arrivi più tardi possibile. Ma queste vulnerabilità vengono scoperte con una logica e una cadenza sempre più importante e quindi questo Patch and Pray Perimeter Protection Strategy is not the right one. Semplicemente non è la strategia che noi possiamo adottare. Dobbiamo trovare calcolatori intrinsecamente sicuri. Ma nel mentre c'è questo programma di 50-70 anni dove ci si deve difendere. Ora, per difenderci servono processi, procedure, strumenti. Ne abbiamo sentito parlare. Il controllo della sicurezza delle informazioni non lo possiamo fare cartaceo. Gli strumenti che adottiamo in gran parte nella nostra nazione sono strumenti realizzati a stati terzi. E qui c'è una riflessione primaria. Se noi lasciamo il controllo delle chiavi del nostro palazzo a stati terzi qualora il cyber war ci fosse ci viene possibile questa riflessione di che funzioneranno sempre questi controlli di perimetro con software che ci sono stati dati da stati che magari sono in cyber war con noi è probabile di no. Il rischio cyber. Ci siamo... Un'altra attenzione a cui ci ha richiamato il magnifico rettore è questa. Se ne parlava anche prima quanto è il rischio economico da attacco cyber medio per azienda? Ora, le medie invece questa la sensibilità ce l'abbiamo. Chi mangia due polli chi mangia zero si mangia tutti un pollo. Giusto? Quindi sono cose che poi vanno interpretate. Però sono numeri sono numeri importanti. Vedete che nel 17 la stima è di quasi 12 milioni medi per azienda. Il rischio economico per azienda. Questo su tutte le aziende del mondo. Vediamo sull'Italia e dopo sarà circa 6-7 milioni. Però è un rischio importante. È un rischio veramente importante. Abbiamo nella percezione che ci sia questo rischio come cittadini come signori che lavorano nelle istituzioni nelle università nelle imprese spesso non mi pare che ci sia questa coscienza di quanto sia drammatico il rischio sia economico e vedremo dopo sia sociale civile e politico di quello che invece pensiamo come signori che lavorano in questo settore è veramente andremo velocemente non ci sono settori che non sono toccati quindi dice sì è una cosa che riguarda le aziende dell'energia le banche e i signori del trasporto ma non riguarda l'agricoltura o l'acqua non è vero non esiste settore che indenne da attacchi cibernetici con diversa natura di ragioni per le quali si fanno queste cose ma non esiste così come non esiste azienda che non è stata toccata da diciamo un attacco diciamo conosciuto o meno penso che in questa sede tutti sappiamo che le aziende che pensano di non essere mai state attaccate sono semplicemente aziende che non se ne sono ancora accorte giusto? questo lo sappiamo se c'è qualcuno che ha dubbio rispetto a questa formazione mi alza la mano sarei felice perché come sappiamo gli attacchi intanto si vedono solo quelli che l'attaccante decide di farsi vedere gli attacchi stanno con noi per anni possono anche rimanere silenti per sempre si attivano quando si decide di attivarli è un tema veramente serio è un tema di di sviluppare una coscienza della situazione e poi fare in modo che capacità formazione strumenti e intenzioni del nostro paese concorrano a diventare più forti di quello che siamo oggi bene ve lo studiate diciamo l'impatto in questo periodo 14-16 è un impatto importante sul sistema Italia 9 miliardi di dollari sono tutti sono sono richiamati gli osservatori che dicono questo per dire che non è una cosa che ci passa attraverso senza che ce ne accorgiamo ora abbiamo detto che tutti i settori sono attaccati questo che è preso in in particolare sulla destra sono le infrastrutture critiche andremo a vedere perché le infrastrutture critiche sono un obiettivo importante degli attacchi cyber e i possibili enormi danni alla popolazione che possono determinare e il tema delle infrastrutture critiche è il tema che ha fatto nascere la direttiva europea di cui si parlerà all'interno di questo convegno che sarà presentata tra poco mi faceva piacere condividere perché c'è questa esigenza e perché l'infrastruttura critica è così esposta alla possibilità di attacco cyber diciamo il cybercrime che è una grande parte delle ragioni di attacco è il luogo dove non facciamo fatica a pensare si svolga oggi oltre l'80% dell'attività criminale del mondo quindi diciamo che se un signore fa parte delle quattro forze dell'ordine polizia carabinieri vigili del fuoco e finanza certamente ha un reparto tradizionale e sta pensando come organizzarsi lo sta pensando da dieci anni ha già fatto dei passi da gigante per avere una polizia cyber il mondo dei carabinieri cyber il mondo della finanza cyber perché diciamo l'attività criminale è svolta sistematicamente e drammaticamente all'interno di questo dominio che diciamo come vedremo è riconosciuto essere il quinto dominio della conflittualità anche come possibilità di avere una nuova strategia di guerra tra i popoli quindi terra aria mare spazio cyber adesso non esiste stato maggiore dei principali stati del mondo che non abbia questo reparto il dominio cyber è un dominio nuovo nuovo se parliamo degli ultimi 15 anni è un dominio drammaticamente pericoloso perché il costo di un'operazione di guerra è infinitamente meno costoso di una qualunque altra storica operazione di guerra si può far saltare una centrale nucleare con poco da un punto di vista economico ha una capacità di determinare cose nuove che è stato che non abbiamo avuto prima e risale al 2000 quindi a circa oltre 15 anni fa il momento in cui due colonnelli della diciamo dell'esercito dello stato maggiore della Cina hanno codificato in un libro la possibilità di attaccare gli Stati Uniti con questi strumenti elettronici e l'idea è questa se io comprometto un sistema energetico di un paese questo blackout lo danneggia duramente se fermo i trasporti e intervengo sull'acqua potabile metto in ginocchio un intero continente nel 2005 si prendeva atto che ci sono centinaia di migliaia di impianti visibili su internet attaccati i quali si possono produrre danni diciamo importanti e da quel momento si è cercato di lavorare per darsi una capacità di azione questo signore che Michael Hayden è stato prima responsabile di NSA poi è stato non so se precedentemente al Dipartimento della Difesa e dopo è stato anche capo del CIA come vedete lui dice una cosa che potremmo dire anche oggi questo vorrei che avessimo nel cuore diciamo mai una cosa così importante è stata affrontata mai si è parlato di una cosa così importante in un modo così confuso come stiamo facendo con questi argomenti noi e lo diceva dieci anni fa se voi lo sentite parlare adesso dice la stessa cosa quindi è un tema serio a distanza di dieci anni dal momento in cui gli americani hanno cercato di prendere le misure su un nuovo dominio che così bene loro hanno determinato e dopo non conoscevano come proteggersi il tema è ne parliamo nonostante così drammaticamente importante in un modo così confuso come mai abbiamo parlato di argomenti è una chiamata alle armi è veramente una chiamata al fare ordine nei nostri pensieri tutti si parlano e qui voglio fare una battuta Cina e USA si parlano non già sul fatto di non avere gli uni gli altri tutte le informazioni che riguardano lo stato rispettivo quindi non si discute se l'USA conosce già i segreti della Cina e la Cina conoscono i segreti degli Stati Uniti ma si parlano per regolare l'utilizzo delle informazioni cioè gli stati si parlano per codificare che le informazioni che sono state raccolte sull'altare della diciamo della libertà degli stati non vengono usate per motivi ad esempio di spionaggio di concorrenza tra le industrie quindi gli Stati Uniti dice se tu Cina che conosci queste cose delle nostre aziende informi la tua azienda e dai un vantaggio competitivo questo è un comportamento scorretto questa è una cosa che determina il fatto che già se uno stato non conosce cosa fanno gli altri è in una posizione competitiva difficile se non ridicola la stessa cosa si parlano un po' tutti gli stati mi faceva piacere farvi vedere rimarrà il vostro così nel vostro documento che cosa stanno facendo da circa dieci anni e più gli Stati Uniti e poi vedremo che anche il nostro paese si è mosso velocemente abbiamo dei regolamenti che determinano un modo favorevole di poterci comportare da qui in avanti ed era il richiamo che stava facendo prima il magnifico rettore a darsi da fare adesso qui vi risparmio che cos'è che stanno facendo vi dico che stanno investendo a livello di bilancio federale da anni attorno a 15 miliardi di dollari bilancio federale casa bianca il dipartimento della difesa oltre 5 miliardi di dollari per diciamo il loro stato maggiore vedete il numero di esperti a migliaia ora gli esperti gli esperti sono di tecnologia e di analisi quindi mai una università come la vostra che ha una caratteristica drammaticamente interdisciplinare può candidarsi per costituire un buon esempio di università che forma esperti di tecnologie di analisi non bisogna solo essere esperti di analisi se non si conoscono bene le cose che può portare la tecnologia e anche non è sufficiente essere esperti di tecnologia se si vuole dare un contributo si può anche diciamo diventare esperti di analisi niente queste cose loro dicono difendiamo il dipartimento della difesa gli interessi diciamo degli Stati Uniti e affianchiamo diciamo la nostra strategia di guerra con strumenti cyber questi sono i tre obiettivi che c'è un'infinità di team coordinati quindi gli Stati Uniti dicono che sarebbe la nostra Europa le vedremo stiamo iniziando a fare un regolamento europeo dicono c'è un fatto urgente e mettono in campo 133 team con un'unica strategia per fare delle cose subito adesso anticipando mi permetto un pochettino e anche per darci il senso dell'urgenza che dobbiamo battere un colpo se noi guardiamo la nascente fantasticamente concepita legge europea adesso dico a grandi lineamenti dice grandi stati dell'Unione europea adottate questa direttiva in ordine alla protezione delle infrastrutture critiche da qui a un numero di anni che vi diranno e gli stati hanno una loro capacità di presa in carico di questa direttiva e dopo hanno un tempo relativamente lungo per adottare queste indicazioni supponiamo che il tempo sia dell'ordine di 7-10 anni supponiamo noi pensiamo che tra 7-10 anni la guerra non sarà più cyber ma sarà biologica e quindi diciamo abbiamo dei reparti del mondo che sono operativi oggi per rendersi per avere strumenti e capacità di intervento oggi e abbiamo una zona fantasticamente occidentale abbiamo la storia del mondo che dice attrezziamoci da qui a 10 anni diciamo lasciamo nei nostri cuori i ragionamenti ulteriori e io penso che ci sia lo spazio per una ricostruzione un rinascimento bottom up diciamo dagli stati di nuovo alla comunità europea dice guarda queste cose qua le stiamo facendo e vogliamo andare avanti vogliamo accelerare il programma nella nostra Europa abbiamo diversi stati e ciascuno farà una strategia nazionale e dopo discuteremo i passi avanti che si sono fatti negli ultimi anni e quelli che saranno da fare ve le risparmio ci sono un'infinità di agenzie e di enti europei che vogliono accelerare questo processo di presa in carico di una coscienza tecnologica europea sul dominio cyber ve li lascio allora chiunque pensasse qua di poter occuparsi di tecnologia di poter fare analisi su temi che riguardano il dominio cyber senza riferirsi alle agenzie agli attori europei internazionali sarebbe un signore destinato ad avere delle grandi delusioni il tema è un tema caro al mondo è un tema che nasce internazionale l'information sharing tra i diversi continenti è una cosa essenziale l'argomento è regolamento degli stati a scendere e popolazione capacità conoscenza che determina l'indipendenza a vent'anni degli stati che saranno stati capaci di dotarsi di strumenti nazionali anche la nato dice è un dominio operativo di guerra diciamo c'è questa organizzazione per la sicurezza dunque l'europa da un punto di vista del digitale permette ai cittadini di muoversi liberamente e non ha le polizie collegate questo penso che si sappia è chiaramente è chiaramente un fatto da pensare e ci sono dei signori in Europa che dicono com'è che riusciamo a collaborare sia come forze di polizia ci sono le cose specifiche ma sia come stati per rendere questi diciamo queste verifiche questi controlli omogenei in tutti gli stati diciamo per essere rispettati la la direttiva NIS attiene alla sicurezza delle infrastrutture critiche vi sarà presentata dopo è un grandissimo sforzo europeo fatto da diversi anni adesso mi sembra sia entrata in approvazione e la dobbiamo realizzare vediamo di che cosa si occuperà da un punto di vista del quello che andrà risolvendo 5 minuti giusto ci sono un insieme di impianti che sono indirizzabili tutti sappiamo o dovremmo sapere che l'internet che noi pensiamo infinitamente grande e indirizzabile quello che tutti guardiamo è il 4% dell'internet disponibile quindi c'è un c'è un 96 che è totalmente indirizzabile non usufruito e ci sono centinaia di migliaia di dispositivi di comando controllo indirizzabili e utilizzabili in modo malevolo faccio un pezzo di ci si è accorti negli ultimi 10-15 anni che questa vulnerabilità dei sistemi industriali esiste ed è seria non sono infinite le ragioni della vulnerabilità sono un numero determinato ma determina una marea di diciamo di possibili vulnerabilità i colori qua sono a percentuale del criticità dei sistemi vulnerabili tutte questo è una diciamo un'analisi su diversi produttori di sistemi di controllo industriale come vedete sono molto nessuno è perfetto ci sono criticità e vulnerabilità che sono rappresentate dal rosso e dal marrone il marrone scappo via il rosso è altamente critico e là ci sono le principali tutte le principali tecnologie vi faccio vedere il quadro europeo e l'Italia in questo caso qua prende un 10 lode sulla criticità dei propri sistemi e capacità di difesa su queste tecnologie anche gli Stati Uniti sono chiaramente altamente vulnerabili facessimo sarebbero drammaticamente marroni rossi anche loro perché tutti i sistemi che sono altamente automatizzati diciamo in qualche modo sono altamente vulnerabili però ecco qui abbiamo una cosa che deve richiamarci se abbiamo un pizzico di identità nazionale e un eventualmente dimenticato orgoglio è una chiamata a riprenderci questo pizzico di orgoglio e lavorare a che questa situazione a 10 anni sia diversa questo ve lo leggete sapevo che sarebbero stati qui arriviamo un po' perché alla fine quello che era la strategia del sistema paese allora che cosa facciamo siamo qua e mi piacerebbe lasciare una una cosa che è assolutamente in linea con quello che sta accadendo con un pizzico di indirizzo su alcuni dei temi ancora più chiaro di quello che ci pare respirare dai documenti che leggiamo le infrastrutture critiche sono guidate da parni privati è inevitabile che istituzioni pubbliche e parni privati collaborino non vi dico che in America sta già succedendo anzi la capacità del sistema privato di essere utile alla conoscenza di informazioni sensibili è superiore a quella del reparto pubblico quindi negli Stati Uniti i privati determinano se vogliono o non vogliono dare alla pubblica amministrazione alcuni dati se quasi siamo a piramide rovesciata c'è un partenariato da ricercare istituzioni università imprese si può fare un'immensità di cose e possono accadere degli incidenti è un mercato che è un'opportunità qui si parla sempre di occupazione e di lavoro diciamo questo è un dominio dove per 30-50 anni saremo con scarsità di risorse quindi per i nostri giovani che studiano è certamente un dominio incredibile questa è la riflessione primaria prima di arrivare a che cosa fa il nostro Stato affidare le difese cibernetiche a strumenti altrui è una cosa che fa dobbiamo pensarci bene questo ne abbiamo parlato dobbiamo lavorare tra pubblico e privato abbiamo una direttiva da seguire in Italia è stata affidata al DIS lo ricordavamo prima la strategia per diciamo la ricostruzione di una di una politica sulla cyber potremo eventualmente durante ho finito il mio tempo ecco se vogliamo lasciarci con una qual è la strategia del sistema paese e vogliamo richiamarci ad una ad una emozione questo diciamo si parlava di un cyber lab permanente fatto con le università direi che lo scalerei ad un cyber lab fatto dei cuori di tutti i cittadini delle istituzioni delle imprese e dell'università che sentono questo tema come un tema di esistenza nazionale e collaborano anche su progetti di ricerca e sviluppo il titolo qua è realizzare asset strategici nazionali questo ve lo leggerete anche noi come Bivitec lavoriamo in questo settore cerchiamo di essere diligenti lavoriamo a strumenti e cerchiamo di essere sempre in contatto con le istituzioni e con le università per scambiare esperienze e condividere progetti di ricerca e sviluppo i progetti di ricerca e sviluppo che servono che serve avviare sono progetti di una dimensione importante dobbiamo ciascuna ciascuno di noi deve immaginare progetti di diverse centinaia di milioni al servizio di pezzi di strategia nazionale della difesa chiaramente bisogna parlarci perché se tutti facciamo la stessa cosa e non è che ciascuno fa un pezzo di puzzle finiamo che nessuno realizza nulla e che si fa una fatica pazzesca lavoriamo con importanti università internazionali e siamo convinti che il partenariato pubblico privato con questo triangolo che portiamo nel cuore sia una strada importante e unica indispensabile per fare bene il nostro lavoro i cittadini e i professionisti grazie 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 per questa panoramica grazie estremamente interessante diciamo che ci dà un po' ci spaventa nel senso che giustamente ci ci fa vedere che i problemi cyber in realtà non sono solamente i problemi dell'azienda dell'attacco locale che può creare un danno certo economico ma magari su una realtà particolare parliamo di problemi che possono arrivare a livello nazionale a livello internazionale problemi economici d'altro mi è piaciuto molto lo spunto sulla parte di spionaggio industriale che poi alla fine diventa anche un problema politico perché diciamo le nazioni devono cominciare a capire come gestire questa enorme disponibilità di informazioni più o meno lecita diciamo così ma comunque che c'è a livello politico per regolamentarla perché se no non si capisce più se quella è già cyber war perché alla fin fine se io metto in ginocchio una grossa azienda americana o cinese comunque sto già facendo guerra e questo chiaramente porta a problematiche che vanno risolte a livello politico a livello legale come sentiremo e diciamo ci coinvolgono tutti da vicino il collega Stefano Zanero ci parlerà più in particolare del problema del problema cyber di come il problema cyber sta diventando critico nell'industria parlando di industria 4.0 quindi di industria connessa e di internet of things quindi il fatto che parlare anche di questo il fatto che di fatto siamo connessi non solo come aziende e con i nostri computer ma con miriadi di dispositivi che noi abbiamo addosso piuttosto che in casa e ovunque quindi come diciamo questo dia una prospettiva diversa del problema cyber grazie Stefano grazie a te buongiorno grazie dell'invito è un piacere essere tornati a Caffoscari a parlare le cose di cui mi vorrei occupare il mio intervento molto rapidamente sono sostanzialmente la sicurezza dei dispositivi IoT in particolare di quelli che secondo me sono critici cioè quelli industriali però nel suo complesso della sicurezza dei dispositivi connessi prima di questo anche se in questa stanza probabilmente quasi tutti ci occupiamo di questo settore quindi siamo già consci però c'è un elemento fondamentale che mi piace richiamare tutte le volte che parlo di security a un pubblico ampio perché secondo me è la chiave interpretativa di quello che facciamo come tecnici come scienziati la chiave interpretativa è questa tutti i sistemi che noi abbiamo intorno a noi sono vulnerabili questo è un dato di fatto è un dato naturale non è non è né un'autogiustificazione che potrebbe suonare così cioè io mi occupo di sicurezza dico ah ma è tutto vulnerabile quindi insomma non è colpa mia in fondo non è questo il senso ma il senso è che noi non possiamo guardare un oggetto e dire ah quell'oggetto è vulnerabile perché questa è una constatazione inutile non ci aiuta quello che ci aiuta è guardare quanto sono vulnerabili gli oggetti quali sono le minacce e cercare di mettere insieme le cose se no non capiamo non capiamo quali sono le cose importanti di cui preoccuparci e le cose che invece sono tecnicamente magari molto belle molto eleganti molto interessanti ma poco rilevanti allora io ho quattro cose che vorrei premettere all'analisi relativa alla sicurezza dei sistemi IoT o come piace chiamarli a me sistemi cyber fisici perché IoT è un termine commerciale che viene più utilizzato per tutto quello che è consumer grade mentre invece noi che ci occupiamo di sicurezza da sempre definiamo questo tipo di sistemi dove ci sono sistemi informatici che controllano e che misurano la realtà li chiamiamo sistemi cyber fisici è il nome tecnico che viene dato nella disciplina ingegneristica da prima che si diffondesse il nome IoT quindi i sistemi cyber fisici hanno quattro proprietà quattro caratteristiche che adesso vado a discutere con voi anche perché penso che siano sotto gli occhi di tutti quindi non credo di doverle giustificare più di tanto il primo fatto è quello che esistono i sistemi cyber fisici sono tipicamente coinvolti in quelli che vengono chiamati sistemi critici dove per sistema critico voi potete prendere una ennupla di definizioni ce ne sono tantissime ma la definizione fondamentale è uno di quei sistemi che se si fermano hanno un impatto forte sulla nostra società e oggettivamente quasi tutti i sistemi critici sono sistemi cyber fisici al giorno d'oggi la strategia europea sui sistemi cyber fisici sulla loro sicurezza è chiara da molti anni infatti è stata iniziata da Vivian Redding che era il commissario e vicepresidente della commissione europea della commissione precedente non dell'attuale commissione Juncker ma della commissione Barroso che lanciò la prima strategia europea sui sistemi e le infrastrutture critiche constatando come le infrastrutture critiche europee fossero esposte al rischio di cyberattacchi e questo è un primo fatto che non ci possiamo dimenticare se ce lo scordiamo non capiamo perché i sistemi IoT come li definiamo sono interessanti sono rilevanti dal punto di vista della sicurezza perché oggettivamente se invece guardiamo il termostato intelligente magari ci viene da dire va bene ma forse dal punto di vista della sicurezza questo non è un sistema così rilevante c'è un secondo elemento che è molto importante nel considerare la sicurezza dei sistemi cyber fisici c'è il fatto che stiamo lentamente togliendo gli umani dai loop di controllo questo che vedete lì dietro è un film che diciamo per la metà dell'audience che è della mia età e più anziana è un film famoso per quelli più giovani è un film che non avete visto sono le immagini di War Games che ha la distinzione di essere il primo film famoso in cui si vedessero delle scene di Hacking per chi l'ha visto si ricorderà che l'elemento fondamentale attorno a cui gira il film è proprio il fatto della decisione di porre un computer senza una supervisione umana in controllo degli armamenti nucleari e quello è l'elemento scatenante della storia del film quello era un film le armi nucleari nella nella NATO non sono automaticamente controllate e ne ringraziamo beh oddio poi dopo ci sono ci potrebbe discutere su chi le controlla al momento ma questi sono ragionamenti che forse voglio lasciare in un secondo piano però nel mondo reale noi stiamo facendo questa cosa su tanti altri sistemi io prendo un esempio che è una parte di mondo reale non necessariamente di mondo cyber fisico ma è molto evidente ed è già successa e quindi mi aiuta poi a parlare di cose che non sono ancora successe per grazie di dio e cioè il fatto che noi per esempio abbiamo tolto stiamo togliendo in parte gli umani dal trading finanziario quasi la metà delle operazioni di trading viene fatta da algoritmi e questo ha degli effetti cioè l'effetto che per esempio se voi siete nella borsa valori c'è un umano che sta guardando quello che succede in borsa e c'è un ervidente errore di vendita cioè c'è una vendita per una cifra che non ha senso uno ovviamente un operatore umano che vuole sfruttarla lo sfrutterà ma chiunque guardando quella vendita si rende conto che c'è stato un errore di qualche tipo ovviamente l'algoritmo questo non lo sa e quindi reagisce così come è programmato solo che è stato programmato pensando ai casi ragionevoli di vendite e di acquisti quindi quel caso irragionevole lo fa reagire in modo spropositato per esempio questo è un esempio un glitch di un algoritmo che ha costato 440 milioni a night trading ma c'è stato un altro caso famoso in cui una vendita sbagliata sul Dow Jones ha causato un crash borsistico perché? perché gli algoritmi hanno iniziato a vendere di conseguenza e siccome gli altri algoritmi hanno visto gli effetti di quelle vendite si è creato quello che un ingegnere chiamerebbe un loop di controllo positivo e la borsa valori è crashata e perché è successa questa cosa? beh questa cosa è successa per due motivi il primo motivo è che non c'era un essere umano che potesse bloccare questa catena di vendite il secondo motivo importante che vi invito a tenere presente perché risuonerà nel momento in cui parliamo di IoT è che ognuno di questi algoritmi è scritto da un'azienda diversa e tutti operano sullo stesso mercato nessuno ha pensato come queste cose funzionassero tutte insieme nessuno avrebbe mai potuto neanche sperimentarlo ogni azienda è un suo segreto come funziona l'algoritmo tant'è che c'è questo signore che è uno dei miei eroi personali questo signor Larsen che è un norvegese che nel 2007 mentre giocava in borsa dal suo computer si è reso conto che tutte le volte che giocava in borsa in un certo modo un algoritmo di Timber Hill che è un trader statunitense rispondeva in un altro modo lui ha fatto due conticini sulla carta e giocando nel modo corretto per ingannare quell'algoritmo ha guadagnato 50.000 dollari quelli di Timber Hill l'hanno scoperto l'hanno portato in tribunale il giudice ha detto scusate se voi vi siete seduti a tavoli da poker e avete fatto la figura dei polli adesso non è che potete venire a piangere da me e ha lasciato i 50.000 dollari al signor Larsen tutti questi algoritmi sono sviluppati da persone diverse non sono studiati con la loro interazione con gli altri non possono esserlo perché sono dei segreti come quello della Timber Hill questa cosa se non vi suona familiare è perché non avete pensato come funziona il mondo dell'IoT in cui tanti dispositivi progettati da gente diversa vengono connessi e interagiscono con lo stesso sistema fisico vi faccio un esempio che fa drizzare i peli così ci capiamo subito le automobili self-driving sono progettate da persone diverse ma guidano sulle stesse strade se noi non troviamo un modo per verificare come interagiscono tra di loro lo verifichiamo guardando che cosa succede sulla strada cioè nel mondo IoT e per quel che riguarda i veicoli probabilmente arriveremo a definire uno standard ma per tutte le altre cose IoT magari no e questo ci porta al tema della complessità delle reti quello che vedete lì è una schermata presa da uno dei portali dell'IoT che è l'istituto degli ingegneri elettrici ed elettronici questo è lo portale sulla smart grid smartgrid.itripoli.org e quel portale quei numerelli che vedete sono il numero di articoli scientifici usciti nell'ultimo mese sulle riviste sulle conferenze dei Tripoli per ognuna di quei settori del mercato della griglia dell'energia voi capite che escono centinaia di nuovi studi nuovi protocolli nuovi algoritmi ogni mese che vanno a inserirsi in alcuni dei pezzi di questo sistema che è un sistema non letteralmente globale perché le reti di distribuzione dell'energia sono continentali ovviamente ma quanto meno continentale e noi abbiamo un piccolo problema se d'altro canto dobbiamo capire come interagiscono tra di loro queste cose specialmente considerando che uno dei pezzi della strategia europea della conversione a smart grid è trasformare il mercato dell'energia in un mercato simile a quello finanziario dove già ci sono gli algoritmi che hanno fatto i bei risultati che abbiamo visto prima solo che invece di spostare sulla carta milioni di dollari che già non è un risultato come dire da poco e qui si tratta di algoritmi che fanno accendere e spegnere centrali nucleari è un po' diverso perché i soldi sono merce che viaggia l'uranio ha un po' più di constraints questa questione dell'interconnessione delle reti qui ho preso un esempio con le smart grid ma potevo prenderne un altro per esempio le reti di controllo dei sistemi avionici una volta su un aereo gran parte dei sistemi di avionica usava un protocollo diverso per ogni sistema questa è una delle slide della presentazione commerciale del 777 e come selling point uno dei selling point del 777 era l'integrazione dell'avionica su reti di modo comune 787 è uguale la 330 è uguale e l'A380 è uguale in un'altra presentazione in questa non me la sono riportata ma ho una fotografia di un data center lo faccio vedere alla gente faccio indovinare alla gente cos'è e poi dopo gli faccio capire che è il data center che sta dentro la pancia degli A380 nell'ombelico dell'A380 c'è una sala server con dei blade che fanno girare i sistemi degli aerei perché? perché i sistemi sono andati a convergenza sono fatti con sistemi hardware standard con protocolli di rete standard grazie al fatto che invece di utilizzare un cavo per ogni sistema si usa un protocollo standard l'A380 pesa quasi una tonnellata in meno una tonnellata di cavi però questa convergenza che cosa fa? fa sì che i sistemi si parlino tra di loro e abbiano delle interazioni nell'avionica queste interazioni sono accuratamente studiate prima di fare la convergenza nell'informatica meno che è il motivo per cui gli aerei stanno su e i computer cadono giù ultimo fatto che è un fatto che non sfugge nessuno ed era già nella presentazione dell'ingegner Boccardo prima noi abbiamo una serie di minacce che aumentano costantemente e che soprattutto ed è il risultato che trovate in questo grafico qui in questo grafico sono rappresentati gli attacchi di spare phishing che sono attacchi di phishing quindi l'invio di mail con siti o con contenuti che vogliono trarre in inganno la persona noi siamo abituati a vedere le mail di phishing per le banche tipo arriva l'email formattata come quella della banca che ci invita a cliccare da qualche parte e noi se siamo furbi non clicchiamo spare phishing significa faccio un attacco verso un'azienda cercando di formattare l'email di scrivere l'email nel modo che quell'azienda normalmente utilizzerebbe per le proprie comunicazioni interne se gli attacchi di phishing sono già efficaci voi immaginatevi quanto possono essere efficaci gli attacchi di spare phishing ora ovviamente la differenza tra un attacco di phishing e uno di spare phishing è il fatto che è molto concentrato e dedicato a una specifica azienda quindi in un caso sei diciamo una pesca strascico nel mare nell'altro è una cosa pensata per quell'azienda lì e quindi quell'azienda lì è un bersaglio allora questo grafico fa vedere negli anni la percentuale di attacchi di spare phishing separata per classi di dimensione delle aziende e quello che si nota qui ovviamente è sempre fatto 100 il totale quindi non si vede la quantità di attacchi di spare phishing ma quello che si vede quella la potete vedere di là ma quello che si vede da questo grafico è il fatto che gli attacchi di spare phishing colpiscono sempre realtà più piccole cioè gli aggressori hanno una barra per definire dove è l'interesse che continua a spostarsi verso il basso e questa è una cosa rilevantissima per l'Italia perché ovviamente il nostro tessuto industriale fatto di piccole e medie imprese fino ad adesso è stato un po' protetto dagli attacchi targeted non veramente però un pochino sì ma questa protezione è in via di scomparsa cioè ormai anche le aziende piccole e medie sono oggetto di attacchi targeted e sono oggetto di sottrazioni di dati sottrazioni di dati che poi si concretizza anche in risultati interessanti questo qui per esempio è uno degli esempi che mi piace di più quello sopra è il caccia cinese J20 che è stato sviluppato ha fatto il primo volo se non mi ricordo male nel 2010 quello sotto è il prototipo dell'F35 quello che si chiamava YF23 della Northrop io sono un ingegnere ma un ingegnere del tipo sbagliato perché non sono un ingegnere aerospaziale ma i colleghi aerospaziali mi dicono che il piano di coda dell'F35 del YF23 non è una configurazione di coda così logica cioè è una configurazione di coda molto particolare il fatto che questi due aerei abbiano esattamente lo stesso piano di coda è un mistero della fede è una cosa è una cosa inspiegabile se non per il fatto che la Northrop è stata una delle prime aziende bersagliate da quelle che poi negli anni noi avremmo chiamato Advanced Persistent 3 cioè gruppi di hacking organizzato probabilmente state sponsored e il primo IPT era probabilmente cinese adesso invece abbiamo gli IPT russi che fanno il bello cattivo tempo però diciamo al tempo erano i cinesi questa è una cosa è l'evidenza plateale fatta aereo del fatto che ci sono campagne di raccolta di informazioni vi risparmio poi tutti i discorsi sul utilizzo di cyber weapons per sistemi critici tipo per esempio Stuxnet la slide su cui ho scivolato perché è probabilmente quello è un esempio che quasi tutti conoscono di malware specificamente progettato per sabotare impianti industriali e la cosa spettacolare per chi studia il malware come me guardando Stuxnet è il fatto che questo malware è stato progettato per decifrarsi solo su uno specifico sistema di Siemens cioè su un computer dotato di una specifica scheda prodotta da Siemens che serve per controllare solo uno specifico dispositivo che sono delle centrifughe che viene usato per separare l'uranio solo da uno specifico paese che è l'Iran cioè un'arma più progettata e più targeted di così non solo targeted ma fatta in modo tale che nemmeno per sbaglio possa dannezzare nient'altro che quello specifico sistema lì perché solo per quello specifico sistema lì si attiva il suo payload una cosa meravigliosa da romanzo di fantascienza invece ce la siamo vista capitare sul tavolo quindi mi sembra che sui quattro fatti che avevo detto siamo tutti d'accordo ora in questo scenario andiamo a vedere l'introduzione non solo nella nostra realtà più macroscopica ma anche proprio nella nostra vita quotidiana di quella che viene chiamata internet of things cioè reti di oggetti intelligenti dotati di capacità computazionale connessi tra di loro che scambiano dati che scambiano dati al fine di avere di fornirci dei servizi e si va dagli oggetti di tipo personale cellulare piuttosto che smartwatch ma anche io lo adoro lo spazzolino da denti bluetooth che ho trovato negli stati uniti ho detto questo è per la mia slide pronto se vi chiedete come mi stavo chiedendo io cosa diavolo serve uno spazzolino da denti elettrico bluetooth serve e cito le parole della persona che ho sentito per capire cosa servisse aperte le virgolette serve per gamificare l'esperienza di lavarsi i denti per i ragazzi dai 5 ai 14 anni chiuse le virgolette ora mia mamma la gamificava a scappaccioni se non mi lavavo i denti evidentemente per i millennials lo spazzolino bluetooth è uno strumento più adeguato al di là del fatto che le cose personali connesse ci possono anche far sorridere però c'è un evidente centro un centro informativo di tutte le cose personali che ci circondano che è il nostro cellulare e il nostro cellulare fa da punto di raccolta di informazioni anche molto rilevanti se io in questa stessa stanza una quindicina di anni fa avessi detto ma guardate io ho una bellissima idea di business vi fornisco un sacco di servizi interessanti a patto che vi mettiate questa cavigliera con un gps e ve la portiate in giro tutto il giorno tutti i giorni mi avrebbero sparato quindici anni dopo questo oggetto adesso se io esco di qui mi dice ah hai parcheggiato 130 metri da qua vuoi che ti faccia vedere dove hai parcheggiato se non ti ricordi perché perché sa che tutte le volte che si scollega dal bluetooth della mia macchina vuol dire che quello lì è il punto dove ho parcheggiato e quindi mi suggerisce il percorso per arrivare alla macchina parcheggiata quando ci salirò mi dirà guarda probabilmente vuoi andare a casa questo è lo percorso l'autostrada è bloccata fai quest'altro giro e peraltro ovviamente sta spartendo il traffico fornendo indicazioni a tante altre persone tant'è che se voi se siamo tutti nella stessa stanza e tutti vogliamo andare a prendere l'autostrada e c'è un ingorgo i nostri se utilizziamo anche tutti insieme google maps google maps non ci darà a tutti la stessa risposta perché non ci coinvolierà tutti nella stessa direzione a meno che non ce ne sia una sola ovviamente ma altrimenti ci darà risposte diversificate per cercare di spartire il traffico in maniera efficiente bellissimo però tutto questo è pagato caro in anticipo dal fatto che ovviamente la mia posizione è tracciata costantemente da almeno un paio di aziende google e apple perché io sto usando un iphone se usate un cellulare android potete prendere il produttore del cellulare android che preferite lo mettete al posto di apple e siete lì quindi il mondo iot è un mondo dove abbiamo un sacco di device un device centrale per tutto quello che è iot personale che è il nostro cellulare che fa una raccolta di dati molto intensa e anche da un certo punto di vista che racconta all'esterno molto della nostra vita perché se il cellulare se ci pensate se il cellulare è in grado di dire oh guarda hai parcheggiato qui perché hai imparato sulla base del fatto che il mio cellulare si è sconnesso da un certo dispositivo bluetooth facendo learning sulle nostre abitudini si possono imparare un sacco di cose su di noi e più dispositivi colleghiamo più cose consentiamo di imparare su di noi quindi il problema della sicurezza dell'IoT non è soltanto sicurezza nel senso di difesa della penetrazione ma è sicurezza nel senso di difesa della privacy tant'è che queste sono cose invece casalinghe la smart tv è stata l'occasione di una delle grandi achievement della mia vita voi capite che allora io ho fatto ho fatto l'ingegnere noi tipicamente abbiamo questo fisico da spostatore di tasti e da raccoglitori di tastiere che non è che ci consenta di aspettare essere intervistato da viversani e belli devo ammettere che non era tra le cose che io prevedevo succedesse nella mia vita eppure mi ha chiamato un giornalista di viversani e belli che stava scrivendo un articolo sulle smart television e questo giornalista era preoccupato perché aveva letto un altro articolo che era uscito su Repubblica relativo a uno strumento scoperto nell'arsenale degli strumenti della CIA che consentiva di entrare nelle smart television allora io gli ho fatto un ragionamento su due passaggi il primo passaggio è stato scusi possiamo poi discuterne eticamente tutto quello che vuole però oggettivamente la missione della CIA è quella di installare telecamere e microfoni nelle case di tutti quelli che per un motivo o per l'altro sono dei nemici degli Stati Uniti d'America questa è fondamentalmente un pezzo della sua missione base per cui se io sono cioè se io mi metto nei panni di un cittadino americano che paga le tasse considerando che ci sono delle smart tv che hanno un microfono e una telecamera se uno dei suddetti nemici degli Stati Uniti d'America è così pirla da mettere la televisione con il microfono e la telecamera in salotto io mi aspetto che la CIA sia in grado di usare quella telecamera e quel microfono considererei le persone della CIA estremamente negligenti se non avessero un sistema del genere per scontato che ce l'abbiano e che si siano attrezzati in merito dopodiché io ho fatto una seconda domanda ma secondo lei adesso magari io mi sbaglio e Osama Bin Laden aveva un abbonamento a vitalizio a Viversani e Belli però secondo me il lettore medio di Viversani e Belli non è un mio amico degli Stati Uniti d'America non sulla hit list della CIA magari lo ha in cuor suo però non credo sia sulla hit list della CIA per converso secondo me il lettore di Viversani e Belli si deve preoccupare di un altro scenario cioè dello scenario per cui tra qualche anno lui sta seduto sul suo divano di casa parla con la sua dolce metà di quanto gli piacerebbe andare in vacanza nei Caraibi e improvvisamente dal successivo spot televisivo in avanti per mesi compaiono solo spot di crociera ai Caraibi perché ne ha parlato quello è lo scenario IoT di cui il lettore medio di Viversani e Belli si deve preoccupare non la CIA che gli entra nel televisore e questa cosa si aggrava man mano che noi aggiungiamo oggetti domotici poi ovviamente invece esistono oggetti domotici dove c'è un oggettivo rischio di penetrazione da parte di terzi per esempio se l'oggetto domotico è un sistema d'allarme allora c'è un oggettivo rischio perché ovviamente il sistema d'allarme è un bersaglio che ha una sua significatività del resto se io vi chiedessi sono mesi che si parla anzi anni in realtà che si parla dei rischi informatici legati agli autoveicoli noi stessi facciamo ricerca su automotive security qual è il rischio più concreto cyber per un autoveicolo il furto perché il furto dell'autoveicolo fatto con la clonazione dei comandi è un attacco cyber se lo volete vedere così ed è quello più banale più evidente di quello tra l'altro di cui si preoccupano di più le case automobilistiche ragion veduta c'è un modello di automobile che io non menzionerò che è tipo la seconda macchina più rubata in Europa che è la seconda macchina più rubata in Europa per due motivi il primo motivo è che è una bella macchina un bel SUV sportivo quindi giustamente una macchina ambita secondo motivo è che nella freccia posteriore sinistra dietro la freccia posteriore sinistra passano due cavi del cosiddetto CAN bus cioè della rete veicolare quindi la persona che la vuole rubare stacca il vetrino della freccia attacca due pinzette ai cavi e riprogramma la centralina della macchina tempo totale 45 secondi lo mescolo con il fatto che la macchina costa 40.000 euro ed è la seconda più rubata in Europa mi sembra evidente quindi gli oggetti IoT alcuni hanno effettivamente un valore e uno schema d'attacco per cui valga la pena pensare alla penetrazione per molti altri no il frigorifero intelligente se me lo bucano non lo bucano perché gli interessa sapere se il mio latte è scaduto cosa che peraltro il frigorifero intelligente saprà e ordinerà ad Amazon Prime Now il latte nuovo per sostituire quello scaduto ma potrebbe interessargli per esempio come punto di partenza per un altro attacco ne abbiamo visto una botnet che si chiamava Mirai che ha fatto attacchi di denial of service partendo da dispositivi in casa c'era una bellissima vignetta che è comparsa sul quotidiano americano non sono più riuscito a trovarla dove c'era questo signore che apriva la porta con la pappalina in testa di notte con due agenti della polizia che gli dicevano lei ha un frigorifero in casa e lui sì certo che ha un frigorifero in casa venga con noi il suo frigorifero sta attaccando la Francia che è più o meno lo stato delle cose ovviamente c'è un rischio cyber connesso ai dispositivi medici che hanno una serie di caratteristiche challenging per esempio i dispositivi impiantabili non possono essere gestiti come siamo abituati a gestire le cose siamo abituati a gestire le cose con l'idea del vabbè noi lo mettiamo lì e poi se non funziona lo pecciamo perché noi ingegneri del software ingegneri informatici facciamo così gli ingegneri che progettano i ponti non hanno mai pensato in questo modo per fortuna se il software però sta dentro un pacemaker voi capite che se non funziona lo aggiorno non è proprio la cosa che uno si vorrebbe sentir dire dal proprio medico quando va a fare l'operazione a cuore aperto per installare il pacemaker tant'è che la gran parte dei pacemaker si possono aggiornare via radio e lì uno dice vabbè allora c'è un rischio cyber sì certo che c'è però capiamoci se io devo ammazzare uno e sia chiaro che sto facendo un ragionamento del tutto ipotetico ci sono un sacco di modi molto più facili che riprogrammargli il pacemaker per ucciderlo poi però se quella persona che porta il pacemaker è il vicepresidente degli stati uniti quando dick cheney divenne vicepresidente degli stati uniti disattivarono l'interfaccia radio del suo pacemaker perché perché se invece la persona in questione è il vicepresidente degli stati uniti ci sono intorno 87 bodyguard di dimensioni epocali che sono lì per proteggerlo allora sì che l'idea di riprogrammare il pacemaker inizia a diventare una roba viable per una persona qualsiasi ci sono un sacco di modi più efficaci per fargli del male che non quello quindi l'interfaccia radio del pacemaker certo è un rischio cyber ma è un rischio quasi inesistente e poi c'è il problema dell'industria l'ingegner Boccardo prima faceva vedere un'interfaccia di ricerca di un motore che si chiama Shodan questa è un'altra interfaccia che fa vedere ogni pallino è un sistema industriale che sciaguratamente risponde online settimana scorsa il giornalista informatico attivissimo pubblicò sul suo blog perché aveva trovato per caso questa schermata di controllo di un impianto di pompaggio dell'acqua e per delle ore lui ha continuato a dire a twittare dicendo questa cosa qui io la sto guardando c'è qualcuno che la sta manipolando io spero che qualcuno che la sta manipolando sia come dire il proprietario dell'impianto perché lo potrei fare anch'io e questo non mi rassicura tantissimo e quelli sono oggetti di questo tipo alcuni magari sono esposti con un senso ma la gran parte di questi oggetti sono esposti su internet e non dovrebbero stare lì perché quando vi connettete a uno di questi oggetti e vedete l'interfaccia di controllo di una turbina eolica per dire vi viene il sospetto che questa interfaccia di controllo non deve bastare su internet senza password è un sospetto legittimo ci sono già stati degli attacchi contro i sistemi di controllo industriale io qui ho due esempi tratti dalla nostra ricerca che si è focalizzata sui robot industriali ci sono due elementi interessanti nella questione dei robot industriali il primo elemento interessante è che i robot industriali tradizionali sono in spazi protetti questi sono robot cosiddetti a gabbia cioè sono in uno spazio protetto se una persona entra nella gabbia apre la gabbia apre un circuito elettrico e toglie corrente ai motori del robot e azione i freni del robot come se si schiacciasse il pulsantone rosso di emergenza e questo dal punto di vista cyber è rassicurante nel senso che questi robot non possono essere riprogrammati per fare del male a nessuno perché lo spazio è protetto e se qualcuno è dentro lo spazio protetto se c'è un operaio dentro lo spazio protetto voi potete avere hackerato questi robot in tutti i modi possibili ma tanto i motori non hanno la corrente e i freni sono bloccati quindi il robot non si muove però i robot moderni sono cooperativi questo è un robot che si chiama Yumi tra l'altro noi ne abbiamo avuto il secondo mai prodotto da BBC che si chiama Frida perché è un prototipo è da noi e Yumi è un robot bellissimo perché vedete è anche stato fatto cute con queste due brazzine il braccino pesa 15 kg quindi è un robot leggero è fatto in alluminio in plastica e in carbonato quindi è fatto e si muove a una velocità relativamente limitata per cui è fatto in modo tale da non poter essere dannoso per gli esseri umani e quindi da poter lavorare a stretto contatto con gli esseri umani nel caso di Yumi nel caso che Yumi entri in contatto con un essere umano se ne rende conto perché perché l'erogazione di energia per spostare il braccio improvvisamente incontra una resistenza che non dovrebbe essere lì e si ferma quindi se per sbaglio c'è un errore di programmazione un errore di sensori qualcuno entra nello spazio del movimento di Yumi e il braccio di Yumi ti tocca certo ti dà uno schiaffetto ma si ferma è fatto apposta la differenza è che il meccanismo che di proprio accezione che fa sì che il robot si fermi è fatto con il software hardware software software si può manipolare l'hardware non si poteva manipolare alcuni robot non Yumi la BB ha scelto di non fare questa cosa giustamente ma alcuni robot hanno invece di avere avevano il teach pendant il controllore per spostare il robot adesso alcuni robot hanno dei controllori virtuali che voi potete avere su un iPhone quindi hanno delle api esposte verso l'esterno per controllare i movimenti del robot ovviamente questo cambia il perimetro di sicurezza nell'azienda moderna i robot sono connessi all'esterno non sono isolati perché sono connessi all'esterno perché devono essere monitorati interfacciati con il che interfacciati con il mondo fisico e sono cioè non è una cosa casuale che i robot vengano connessi perché tipo i robot questo è un manuale di un altro robot non è un robot di ABB non vi dico quale robot è però in realtà è abbastanza facilmente ricostruibile se lo cercate con Google ed è un robot che è fatto per poter ricevere comandi via mail sul robot c'è un mail server per ricevere comandi via mail voi gli mandate un programma via mail e il robot vi risponde ok e lo fa se tu mi metti il mail server sul robot significa che pensi che la gente gli mandi delle mail quindi il robot a internet lo vuoi connettere cioè non è che mi puoi dire che è un caso se andiamo avanti così uno verrebbe da pensare prima o poi avremo gli app store per i robot ci sono questo è un sito esistente ovviamente questo è per i robot consumer ma ci sono anche dei servizi in cloud simili per i robot industriali voi andate sul vostro robot e come scaricate le app del cellulare potete scaricare le istruzioni per saldare un pezzo di lamiera questo vuol dire che i robot sono connessi sono anche troppo connessi per esempio questa è una survey che abbiamo fatto su alcuni dei principali router di connessione industriale ci sono quegli oggetti lì costano dagli 8 ai 10 mila euro e sono praticamente dei router da supermercato di più ne meno e ne abbiamo trovati 80 e passa mila ma quello che è più interessante è che di queste 80 e passa mila ma proprio così è trovati cercando a caso senza impegnarci più di tanto più di 2000 non hanno login e password cioè tutti i colleghi e vedi la rete robotica che sta dietro abbiamo trovato una serie di vulnerabilità nei robot vi rimando al nostro sito robosec.org dove trovate gli articoli le vulnerabilità le disclosure fate le aziende ci sono dei video di presentazione e tiro solo le conclusioni che spero siano utili per tutti abbiamo preso degli oggetti gli abbiamo messo dei controllori informatici abbiamo messo questi oggetti nei sistemi critici li abbiamo messi online tutto questo non è stata una buonissima idea nel mentre le minazze online si sono moltiplicate sappiamo che ci sono di solito ci preoccupiamo dei problemi dei cosiddetti zero day ma in realtà se leggerete la nostra ricerca sui robot vedrete che più che zero day sono dei forever day perché ci sono delle vulnerabilità lì dentro tipo abbiamo trovato un buffer overflow una vulnerabilità esattamente uguale a quelle che trovavo da ragazzino nel 97 che si può anche controllare nello stesso modo cioè se sono riuscito a bucarla io vuol dire che è veramente ancora esattamente come era i bei tempi d'oro e dopo 20 anni questa cosa non è accettabile il motivo per cui questa cosa succede è il fatto che ci mancano alcuni elementi fondamentali di ricerca e di design in questo settore che dobbiamo sviluppare in particolare adesso che c'è questo push per Industri 4.0 dove c'è una sacrosanta sovvenzione per le aziende per sviluppare la loro capacità produttiva nella direzione di Industri 4.0 la definizione di Industri 4.0 è se la macchina si connette a internet ti do la sovvenzione e voi capite benissimo diciamo nell'industria PMI italiana questo cosa può portare quindi dobbiamo impegnarci perché quelle macchine lì non finiscano tutte come dei pallini sul mappa di Shodan vi ringrazio per la vostra attenzione grazie Stefano uno dei punti credo importanti tra le varie cose molto interessanti che ha detto Stefano è proprio questa questo fatto che insomma nello sviluppare sistemi nuovi o nel rendere dei sistemi più moderni la sicurezza dovrebbe essere un elemento del design perché non è che possiamo prendere una cosa e connetterla così com'è altrimenti un sistema che in isolamento è sicuro ma ha vulnerabilità ovvie diventa un punto di attacco fortissimo quindi il discorso che facciamo prima cioè prendere coscienza che la sicurezza cyber è un elemento importante e inserirlo nella parte di design quindi avere dei sistemi che siano sicuri by design quindi in qualche maniera e questo è una delle cose su cui noi come accademici ma credo che questo dovrebbe passare anche a livello dell'industria su cui vogliamo veramente spingere e lo stesso nell'automotive è un po' sta succedendo nel senso c'è la rincorsa avere sistemi automatici per ma ci chiediamo se la sicurezza è stata un attimino presa veramente in considerazione o se è più un marketing che spinge a connettersi perché questo vende di più quindi questa è una domanda che ci dobbiamo porre un po' tutti vi ringrazio il primo intervento sarà di Stefano Mele avvocato che ci parlerà della parte giuridica credo che questa sia diciamo una cosa che forse non abbiamo ancora esplicitato bene ma è importante dire è che la cyber security è una disciplina estremamente che è un po' strano dire una disciplina estremamente interdisciplinare nel senso che coinvolge discipline diverse ok quindi all'interno della cyber security possiamo parlarne tecnicamente abbiamo avuto appunto l'intervento anche del collega Stefano che da ingegnere lavora fa ricerca e sviluppa sistemi sicuri li studia li sviluppa però chiaramente quando si parla di cyber security e questo ve ne parlerò ancora un pochettino dopo nel mio intervento sulla formazione in realtà dobbiamo considerare cose completamente diverse dall'informatica e dall'ingegneria quali la parte giuridica chiaramente ma anche aspetti sociali aspetti che riguardano per esempio la gestione dell'informazione l'analisi dell'informazione dei dati che non è strettamente una disciplina informatica ma riguarda poi come questi dati possono essere utilizzati abbiamo parlato di politica eccetera eccetera quindi lascio la parola a Stefano che ci parlerà appunto degli aspetti giuridici grazie grazie mille grazie mille buongiorno a tutti e i ringraziamenti davvero non diritto sono gli organizzatori di questa giornata di questo approfondimento davvero molto stimolante a cui darò il mio modesto contributo sulla parte relativa alle in particolare alle norme mi è piaciuto moltissimo il titolo di questa conferenza Cyber Security Last Call perché come molti di voi anzi come quasi tutti sapete ci troviamo di fronte a una congiuntura temporale anche sotto il punto di vista non soltanto tecnologico ma anche normativo ci sono a maggio di quest'anno infatti avranno piena applicazione non solo il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea che cerca di rivoluzionare davvero la gestione sotto un punto di vista legale del trattamento dei dati personali ma dovrà essere recepita entro il 9 maggio 2018 così come vedremo tra breve anche la direttiva NIS che è il primo tentativo dell'Unione Europea di cercare di creare una linea comune e di armonizzare il livello di sicurezza delle informazioni all'interno di tutti gli stati membri presento molto velocemente io sono Stefano Mele e sono responsabile del dipartimento di diritto delle tecnologie privacy cyber security intelligence di Carnelutti studio legale associato a Milano da sette anni l'ho creato e da sette anni lo porto avanti ma la mia attività non è soltanto relativa alla consulenza strettamente legale nell'altra parte della giornata nelle altre 12 ore mi occupo anche di consulenza in ambito di sicurezza nazionale per il governo italiano e per la Nato e in particolar modo nella Nato sono presidente del comitato sulla sicurezza cibernetica del comitato atlantico italiano senza dilungarmi oltre sulla mia presentazione che lascio anche un po' insomma il tempo che trovo ma è solo per giustificare il perché vi parlerò non solo di norme ma anche di intersezione delle norme nell'ottica della sicurezza nazionale partirò sicuramente dal raccontarvi un po' la direttiva NIS come vi dicevo la direttiva NIS è una norma molto molto importante al di là infatti del contenuto che può essere sindacabile o meno è importante perché è un non last call about cyber security ma un first call dell'Unione Europea a cercare di prendere davvero sul serio la materia della sicurezza dell'informazione e della sicurezza informatica in realtà non è la prima normativa europea ovviamente in questo settore ce ne sono state tante altre precedenti addirittura una già verso la fine degli anni 90 ma erano normative che avevano una focalizzazione su specifiche problematiche non guardavano invece la problematica sul piano globale quindi sul piano più strategico la direttiva NIS cerca di fare esattamente questo e si rivolge come vedete in particolar modo a due categorie di soggetti giuridici ovviamente gli stati che devono recepire essendo una direttiva appunto entro l'inizio di maggio di quest'anno ma molte le vedremo tra un po' articoli di questa normativa si rivolgono in particolar modo alle aziende private alle aziende private sia gli operatori di servizi essenziali quindi vedete energia quindi energia elettrica petrolio gas i trasporti il settore bancario le infrastrutture dei mercati finanziari il settore sanitario ovviamente la fornitura e la distribuzione di acqua potabile l'ingegnere prima ce l'ha l'ingegnere Boccardo prima ce l'ha ce l'ha ricordato le infrastrutture digitali ma anche i fornitori di servizi digitali e quindi i motori di ricerca chi si occupa di vendita online e come viene chiamato la norma i servizi nella nuvola ovviamente il cloud computing perché ovviamente nelle normative quando viene fatta la localizzazione viene tradotto tutto in italiano e quindi di conseguenza anche il cloud computing è diventato servizi nella nuvola non si rivolge invece alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico perché già regolati da un'altra normativa che è quella da un'altra direttiva che è quella del 2002 che già pone alcuni obblighi in particolar modo non solo di sicurezza ma anche di notifica e la norma richiede una valutazione a ogni singolo stato membro anche per le società che erogano servizi bancari perché anche i servizi bancari come sapete sono fortemente regolarizzati sul piano normativo e quindi di conseguenza viene richiesto uno sforzo in più allo stato per calibrare la direttiva NIS verificando quelle che sono le normative nazionali in materia bancaria in ogni caso ed è qui il primo diciamo sforzo fra virgolette perché in realtà come ci diceva l'ingegnere Borcardo prima di definizioni di infrastrutture critiche ne abbiamo avute ma sono sempre molto confuse non sono regolamentate effettivamente da una norma che sia comune e quindi per arrivare a risolvere questo problema il primo punto che la direttiva NIS richiede agli stati in questo caso è entro il 9 novembre del 2018 quello di identificare per ciascun settore ma anche per ciascun sottosettore tutti gli operatori dei servizi essenziali che vi ho accennato prima che abbiano una sede nel territorio di ogni singolo stato membro quindi io immagino per quanto riguarda l'Italia l'ENI per il settore petrolifero l'evocazione dell'energia elettrica e così via e questo elenco deve essere aggiornato da ogni stato entro ogni due anni entro il 9 maggio entro due anni dopo il 9 maggio del 2018 che è la data entro cui ogni stato membro deve assorbire questa normativa i criteri per l'identificazione degli operatori di servizi dice la norma sono un soggetto ovviamente che fornisce un servizio che è essenziale e critico per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali che questo servizio ovviamente dipenda da strumenti informatici e il terzo elemento è che un incidente a quegli specifici strumenti informatici di quello specifico soggetto giuridico che li eroga avrebbero effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio quindi questi sono i tre criteri posti in esse dal legislatore europeo a cui ogni stato in questo momento sta guardando per redigere questa lista di aziende nazionali che erogano servizi critici ora da questo piccolo passo che viene richiesto agli stati membri in realtà la normativa richiede agli stati sempre di controllare nel tempo che effettivamente questi operatori di servizi essenziali adottino misure di sicurezza adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti ovviamente relativi non soltanto ai dati personali perché non ci troviamo all'interno della normativa sui dati personali a cui magari siamo un po' più abituati a riflettere in questo caso parliamo a 360 gradi di una normativa che cerca di individuare l'impatto sulla sicurezza delle informazioni in genere quindi sull'erogazione del servizio essenziale quindi un bene sicuramente più alto sicuramente pubblico e sicuramente più alto perché l'obiettivo ovviamente per il legislatore europeo è quello che venga garantita la continuità di erogazione di questo servizio quindi gli stati membri dovranno obbligare ciascuna di queste aziende inserite all'interno degli elenchi degli operatori che erogano servizi essenziali affinché quindi dovranno obbligare affinché questi soggetti notifichino dice la norma senza indebito ritardo all'autorità competente o al XIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante su questa continuità dei servizi fra parentesi dato che come tutti sapete anzi la maggior parte di voi sicuramente potrà insegnarvi internet ci interconnette tutti la norma non richiede soltanto la segnalazione nazionale del fornitore di servizi essenziali alla sua autorità il fornitore di servizi essenziali dovrà notificare alla sua autorità anche la valutazione sulla possibilità che quell'incidente informatico possa causare all'interno dell'Unione Europea verso altri cittadini europei il medesimo effetto e quindi in quel caso lo Stato membro dove risiede fisicamente quella fornitore di servizi essenziali dovrà immediatamente connettersi tra virgolette con l'altra rete con l'altra rete di operatori a livello europeo e comunicare il rischio in corso ovviamente dice la norma lo vedete nell'ultima nell'ultima frase la notifica non deve esporre la parte che l'effettua a una maggiore responsabilità maggiore rispetto ovviamente da un punto di vista giuridico all'eventuale caso del dolo o della colpa grave ovviamente per determinare la rilevanza di un incidente o comunque per determinare l'impatto di un incidente la norma richiede tre punti in particolare che devono essere presi in considerazione ovviamente il numero di utenti interessati dall'incidente la durata dell'incidente e come vi dicevo anche la diffusione geografica ovviamente lo Stato si garantisce già all'interno della direttiva NIS il diritto nel caso di informare una volta avuta la notizia dall'operatore del servizio essenziale di informare tutti i cittadini dell'accaduto quindi per esempio da un punto di vista strettamente giuridico questo questo evento qualora si verificasse potete immaginare che anche ricadute ha sull'immagine stessa dell'azienda inoltre gli stati membri provvedono affrinché dice la norma le autorità competenti siano dotate ovviamente dei poteri e delle capacità di effettuare questi controlli e dei mezzi necessari e quindi si richiede di fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sistemi agli operatori e la prova dell'effettiva attuazione delle politiche di sicurezza quindi è un controllo che ancora una volta avverrà per sintetizzare dallo Stato membro verso l'infrastruttura perché vengano create tutte l'humus necessario affinché questo circolo virtuoso si crei la struttura che eroga un servizio essenziale dovrà poi rimandare informazioni costanti verso il punto di snodo nazionale e il punto di snodo valuterà non soltanto la gravità dell'eventuale incidente e quindi se notificarlo meno alle altre operatori di servizi essenziali all'interno dell'Unione Europea attraverso i loro governi o ai cittadini di quello dello specifico governo o addirittura lo leggete nell'ultimo paragrafo imporre a quell'operatore di servizi essenziali delle vere e proprie attività di rimedio alle carenze individuate quindi come vedete l'impianto che è stato posto in essere dal legislatore europeo è un impianto di assoluta attenzione e di controllo anche abbastanza capillare o addirittura di intervento capillare del governo almeno nei confronti degli operatori essenziali questo in maniera molto molto sintetica per mettere sul piatto della discussione di oggi quelli che sono un po' le richieste che vengono fatte alle aziende in questo momento per quanto riguarda la direttiva NIS un'ulteriore norma molto importante questa immagino l'abbete sentito parlare tutti perché diciamo ormai vi arriveranno almeno tre o quattro mail al giorno relativi all'adeguamento sul GDPR cosiddetto quindi sul regolamento europeo per la protezione dei dati e qui io ho voluto utilizzare un'immagine per introdurvi questo discorso che attiri la vostra attenzione su un piccolo particolare la chiamiamo tutti e continuiamo a chiamarla tutti anche gli operatori technici privacy invece è sbagliato perché fino a che a mio avviso a mio modestissimo avviso continueremo a concentrarci a chiamare questa materia privacy continueremo a non far comprendere il perché una società da qui al 25 maggio del 2018 debba fare tutto un menu che vedete tra un po' di attività ovviamente non ve le sbiscerrerò tutte vi evidenzio solo quelle più importanti molto oneroso non soltanto in termini di tempo ma anche in termini di costi non è privacy è protezione dei dati personali è salvaguardia per quanto riguarda le aziende dei clienti quindi dei soggetti persone fisiche che affidano i dati alle nostre aziende è salvaguardia dei dati dei dipendenti di quelle aziende ancora una volta come persone fisiche perché sapete che il codice della privacy si applica solo al trattamento dei dati di persone fisiche non al trattamento dei dati di persone giuridiche ecco a mio avviso noi continuiamo a concentrarci e a parlare in maniera errata di questa materia perché continuiamo a racchiamarla privacy e probabilmente oggi nel momento in cui nominiamo privacy ci viene in mente la tutela della nostra sfera personale dei televisori con una telecamera e un microfono che è un valore importantissimo per l'amore di Dio ma non giustifica uno sforzo tale per le aziende soprattutto in una fase di compliance ormai a stretto giro come quella del GDPR è e dobbiamo sforzarsi di ricordarcelo protezione dei dati personali ed è obiettivamente una rivoluzione quella della protezione dei dati personali almeno sotto il punto di vista del regolamento europeo perché cambia completamente l'approccio io faccio come vi ho detto l'avvocato in questo settore da un po' di anni e devo dire obiettivamente che la compliance al decreto legislativo 196 del 2003 è una compliance obiettivamente meramente compilativa non scondiamoci dietro a un dito con un po' di anni di esperienza circa 15 in questo settore io posso tranquillamente senza neanche interfacciarmi con l'azienda sapere cosa fa quell'azienda e produrre nell'arco di 2-3 settimane una montagna di documenti cartacei perfettamente a norma che garantiscono che in caso di controllo del nucleo speciale privacy della guardia di finanza garantiscono nel 90% dei casi hanno garantito la non erogazione di alcuna sanzione perché l'approccio giustamente nel 2003 era un approccio completamente differente alla privacy alla protezione del dato oggi invece la compliance in materia di protezione dei dati non può prescindere dall'interfacciarsi con la parte tecnologica con l'analisi del rischio informatico su quei dati personali su come vengono protetti quei dati su chi ci accede su dove vengono comunicati dove vengono storati dove vengono conservati e così via e quindi è un'attività che parte dal valutare se state facendo come immagino se ci sono delle aziende questa attività dal valutare come primo passo tutta l'infrastruttura organizzativa e tecnologica che avete all'interno dell'azienda sotto il punto di vista della privacy by design e della privacy by default che cosa significa semplicemente che da un punto di vista organizzativo e tecnico informatico bisogna trattare il minor numero possibile di dati personali rispetto alla finalità e soprattutto devono accedere a quelle informazioni soltanto le persone che ragionevolmente devono gestire e trattare quei dati quindi dobbiamo immaginare una protezione del dato personale sia by design quindi nel disegno del processo sia questo organizzativo quindi umano ma anche quello informatico e by default ovviamente è estrettamente legato al software ma dovete redigere anche un registro delle attività di trattamento ovvero dovrete andare a mappare tutte le attività di trattamento che sono fatte all'interno di ogni singola funzione aziendale in particolar modo se avete presente è praticamente un file excel praticamente impossibile da stampare in alcuni casi dove andrete a mettere tutte le funzioni aziendali da una parte e su tutte le richieste che il garante che il legislatore europeo vi fa sulla analisi di ogni singolo processo all'interno di ogni singola funzione aziendale e quindi le finalità del trattamento le modalità del trattamento i soggetti a cui possono essere comunicati i dati i limiti del trattamento perché per esempio una grandissima novità di questa normativa è quella di dover obbligatoriamente inserire all'interno delle informative privacy e all'interno anche del registro il limite temporale entro cui il trattamento dovrà interrompersi in ragione ovviamente della finalità quindi lo dovete dichiarare o in anni specificatamente se riuscite a saperlo oppure dovete dichiarare il metodo attraverso cui voi vi accorgerete che quel trattamento è andato a scadenza e quindi i dati devono essere cancellati quindi successivamente alla redazione del registro dovrete andare a identificare all'interno di ogni singola funzione se per caso c'è qualche processo che è particolarmente rischioso sotto il punto di vista della protezione dei dati personali e qualora immagino per esempio i casi di profilazione dei dati personali e questo viene richiesto dalla norma obbligatoriamente qualora li troviate dovete obbligatoriamente fare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati un'analisi ancora una volta del rischio partendo dal dato verificato il dato sotto il punto di vista della privacy by design della privacy by default o il processo dal punto di vista della privacy by design e privacy by default andare a fare una vera e propria analisi del rischio tecnica e legale su quello specifico trattamento all'interno di quello specifico processo all'interno di quella specifica funzione è obbligatorio farlo qualora voi trattiate dati che possono essere o cosiddetti particolari che sono gli ex dati sensibili quindi stato di salute e così via più la parte della profilazione e così via la geolocalizzazione di una persona è sicuramente un dato personale ma attenzione perché nell'ottica vedete come viene ripreso anche un po' dalla direttiva NIS l'obbligo per gli erogatori di servizi essenziali di dover comunicare all'autorità un eventuale data breach l'obbligo per le aziende che trattano dati personali di dover comunicare all'autorità garante per la protezione dei dati eventuali data breach ovviamente avvenuti magari sul database dei clienti anche in questo caso bisognerà valutare perché ci sono delle possibilità che questa comunicazione non debba essere fatta al garante se sono stati utilizzati degli accorgimenti a monte nella realizzazione del processo e quindi evitare di autodenunciarsi praticamente all'autorità che verrà poi a farvi ovviamente il controllo e per di più c'è anche la possibilità che nel momento in cui la violazione riguardi un numero enorme aiuto sessione sponsorizzata ok un numero enorme piccolo spazio pubblicità è pubblicità senza il vostro consenso ci sarebbe avuto un consenso espresso quindi nel momento in cui subbiate malocuratamente un database che contiene dati personali che mettono a rischio un gran numero di soggetti di utenti di interessati per chiamarli tecnicamente non solo sarete obbligati a comunicarlo al garante per la protezione dei dati ma sarete obbligati a comunicarlo a ogni singolo utente all'interno di quel database ancora una volta vi immaginate il danno reputazionale conseguente ogni tanto magari vi è arrivata qualche mail da qualche operatore telefonico da qualche banca in cui vi si diceva di urgentemente di cambiare la password all'interno dei vostri account personali era esattamente questo inoltre qualora voi effettuate trattamenti di dati personali particolarmente significativi la normativa vi richiede scusatemi se semplifico ma cerco di essere anche un po' più spendibile sul piano della comunicazione perché non vorrei addormentarmi perché so quanto possono essere noiose gli interventi degli avvocati sarete obbligati anche a individuare all'interno della vostra azienda una nuova figura interna o esterna che si chiama data protection officer quindi responsabile della protezione dei dati che dovrà gestire insieme all'azienda tutta la protezione del dato tutto il processo sarà praticamente un organismo di vigilanza fra virgolette interno all'azienda completamente focalizzato sulla parte della protezione dei dati a mio avviso è questa la convergenza che stanno cercando e che il legislatore sta cercando di fare ancora dovrete andare a inserire non soltanto un processo per la gestione e la comunicazione del data breach ma anche dei processi interni all'azienda per alcuni nuovi diritti che vengono garantiti agli utenti quindi agli interessati del trattamento quindi ai soggetti che vi hanno affidato i loro dati personali e sono sicuramente il diritto all'oblio quindi i casi in cui un soggetto può richiedervi illecitamente di cancellare quei dati e il diritto alla portabilità dei dati quindi il diritto che un utente possa chiedervi di prendere tutti i dati identificativi che voi avete su di lui e senza alcun costo per l'utente trasportarli verso un'altra piattaforma inviarli verso un'altra piattaforma è un classico tentativo di cercare di svincolare l'utente ovviamente scarsamente protetto sotto questo punto di vista da un vendor specifico soprattutto quando si trattano di social network e così via infatti se vedete se leggete tutta la normativa europea come una mossa per diciamo tarpare le ali fra virgolette ai big americani le società le più importanti società americane che hanno miliardi e miliardi di dati su di noi tutto questo vi torna assolutamente più che normale è chiaro che invece questa normativa però si applica tanto a google a facebook e amazon quanto alla piccola e media impresa italiana che ovviamente di gestire tutto questo carico di lavoro avrebbe fatto a mio avviso volentieri a meno io ve l'ho inquadrato in maniera molto molto veloce ci sarebbe molto altro ancora da dire ma non voglio togliere tempo agli altri relatori soprattutto non voglio uccidere la vostra attenzione queste sono sicuramente le attività più importanti da fare all'interno del gdpr e cominciate a notare come in realtà la logica che c'è dietro alla direttiva nisse la logica che c'è dietro al gdpr paiono convergere sempre di più verso un tentativo di avere una security security by design e una security by default al di là che ci si trovi a proteggere un dato personale oppure un'informazione riservata di un'azienda o un comunque un'informazione di valore come la chiamano all'interno dei servizi di valore all'interno di un'azienda ed è effettivamente ah sì scusatemi normalmente non lo faccio mai però non parlo mai delle sanzioni perché mi sembra un un metodo molto sporco fra virgolette dei nuovi avvocati per vendere qualcosa ma siccome non devo vendervi niente però in realtà l'ho messa e ci sono anche delle sanzioni connesse al gdpr ne avrete sentito parlare che è il principale appunto veicolo di vendita che normalmente viene utilizzato sono assolutamente rilevanti io con una battuta ho voluto mettere la carta del monopoli di vai in prigione senza passare per il via perché obiettivamente sono a mio avviso delle sanzioni completamente illogiche perché per le la violazione delle disposizioni cosiddette meno gravi è soggetta a 10 milioni di euro perdonatemi o fino al 2% del fatturato globale anno dell'esercizio precedente dell'azienda per quelle più gravi magari un illecito trattamento di dati personali sono 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale anno dell'esercizio precedente se superiore quindi sono a mio avviso delle sanzioni davvero illogiche ma acquisiscono logicità nel momento in cui poi le inserite nella logica che vi dicevo prima del GDPR cioè di colpire ad alto livello le multinazionali che fanno trattamenti profilazione e diciamo cancellano e ricordano non cancellano niente e ricordano tutto di noi quindi ritornando al titolo cyber security last call no a mio avviso è uno sforzo dell'Unione Europea e last call per noi per svegliarci sicuramente e per cominciare a dire che effettivamente questo settore non può più essere preso in considerazione come se fosse ancora qualcosa di poco interessante di poco utile ma all'interno dell'Unione Europea la mentalità è assolutamente contraria è un first call verso un progetto verso una strategia molto molto differente e infatti il 13 settembre del 2017 la Commissione Europea ha pubblicato la nuova cyber strategy dell'Unione Europea appunto che si chiama ho riportato esattamente il titolo resilienza deterrenza e difesa verso una cibersicurezza forte per l'Unione Europea la particolarità quindi i tre pilastri sono resilienza deterrenza e difesa e la particolarità di questa strategia è che finalmente l'approccio del dello stratega europeo del governo del Parlamento europeo ha in questo settore passato da un approccio reattivo quindi mi succede qualcosa faccio qualcosa altro come reazione a un approccio proattivo quindi cerco di fare qualcosa prima che si verifichi l'evento ed effettivamente se noi andiamo a guardare le azioni chiave che per ognuno di questi tre pilastri l'Unione Europea ha posto in essere capiamo effettivamente che la direttiva NIS piena attuazione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la direttiva NIS e il GDPR sono in realtà dei piccolissimi tasselli di inizio di una strategia molto più ampia che andrà a adottare da parte del Parlamento europeo e del Consiglio un nuovo mandato per l'ENISA per esempio che è l'ente europeo per la protezione lo conoscete tutti per la protezione dei sistemi informatici quindi l'ente che dovrà armonizzare e creare quegli standard di cui parlavamo precedentemente di iniziare guardateli quello che vi dicevo prima un'iniziativa congiunta della commissione e del settore industriale volta a definire un principio di dovere di diligenza dice la norma per ridurre le vulnerabilità dei prodotti e del software e promuovere la sicurezza fin dalla progettazione security by design quindi non più privacy by design privacy by default security by design e quindi è chiaro come la direttiva NIS e il GDPR sono un punto di partenza verso questo ma ancora attuare un programma per la risposta agli incidenti informatici trasfrontalieri su larga scala attivando per esempio la clausola di solidarietà dell'Unione Europea perché pochissime persone sanno in realtà che l'articolo 222 della fondazione della nostra Unione Europea già prevede da anni quindi dalla fondazione stessa dell'Unione Europea una clausola di solidarietà cioè nel momento in cui uno Stato nemico ovviamente nel momento in cui attacca ma anche amico fino a poco tempo prima dovesse attaccare l'Unione Europea l'attacco verso uno Stato dell'Unione Europea è un attacco verso tutta l'Unione Europea un po' quello che la Nato ha introdotto recentemente per il blocco Nato in ambito cyber quindi l'estensione della validità dell'articolo 5 dove si dice un attacco militare a un paese che è ci diceva l'ingegnere prima a un paese che è membro del blocco Nato è un attacco contro tutta la Nato e la Nato può reagire questo per quanto riguarda le azioni chiave in materia di resilienza le azioni chiave in materia di deterrenza invece attuare nel 2018 all'inizio del 2018 una iniziativa comune della Commissione per l'accesso trasfrontaliero alle evidenze informatiche quindi cercare di risolvere uno dei problemi se c'è qualche avvocato in sala soprattutto se fa penale più rilevante in questo momento dove i penalisti non riescono a gestire la difesa perché il crimine è trasfrontaliero però la collaborazione è a stento nazionale e questo è un problema enorme ancora rapida adozione da parte del Parlamento europeo del Consiglio della proposta di direttiva relativa alla lotta contro le frodi e soprattutto la falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dei contanti carte di credito ma anche io vedo da qui un inizio di strada verso anche le cryptocurrency per esempio inoltre sempre per quanto riguarda la deterrenza queste sono solo le più importanti l'attuazione del quadro per una risposta diplomatica congiunta dell'Unione Europea alle attività informatiche dolose attraverso l'inclusione della cyber defense nel quadro pesco cioè nella cooperazione strutturata permanente quindi si cerca di dare anche una risposta a quello che ci introduceva all'inizio l'ingegner Boccardo sulle attività degli stati che fanno conflitti attraverso internet e le tecnologie perché inserire la cyber defense nella cooperazione strutturata permanente la cosiddetta pesco è il primo passo per portare al tavolo della diplomazia internazionale anche gli attacchi fatti dagli stati oggi soprattutto senza un quadro specifico l'ultima slide e le ultime azioni sono quelle relative al terzo pilastro della strategia dell'Unione Europea che è la cooperazione internazionale e attenzione vi ho riportato esattamente tra parentesi e tra virgolette quello che dice l'Unione Europea l'Unione Europea c'è scritto promuove fortemente la posizione secondo cui nel sebespazio il diritto internazionale si applica e in particolare si applica alla carta delle Nazioni Unite questo perché c'è un dibattito in atto soprattutto a livello legale soprattutto a livello internazionale in ambito Nazioni Unite in particolare perché la Nato è un po' più coesa sotto questo punto di vista nel capire se il diritto internazionale e soprattutto il diritto internazionale dei conflitti si applichi o no allo stato attuale anche all'attività di conflitto all'interno del sebespazio la strada era stata tracciata già da un po' di tempo verso questa soluzione il fatto che l'Unione Europea lo specifichi in maniera assolutamente chiara e diretta all'interno della sua nuova save strategy è un segnale sicuramente molto forte inoltre un altro elemento molto rilevante che magari richiamerà l'esperienza di qualche società italiana che avete visto sui giornali un po' di anni fa ci saranno ulteriori l'introduzione di ulteriori controlli sull'esportazione di tecnologie critiche di sorveglianza cibernetica questo perché sempre di più questo genere di software vengono venduti o vengono comunque in linea generale utilizzati anche da governi magari sotto embargo perché è capitato lo trovate pubblicamente in alcuni casi anche se è ancora tutto da provare perché ovviamente il controllo la capacità di controllare questo genere di armi fra virgolette in senso tecnico quindi di software per la video per la sorveglianza e si riflette poi sul fatto che ci sia un fiorire enorme di questa specie di tecnologie che soprattutto queste tecnologie vengano spesso vendute purtroppo anche dove non si dovrebbe l'ultimo elemento ovviamente è portare avanti la cooperazione tra Unione Europea e Nato con esercitazioni parallele e coordinate in ambito di cyber security bene se questa è la strategia dell'Unione Europea perché questa è la strategia dell'Unione Europea e se queste sono le attività che l'Unione Europea intende fare da qui in avanti ancora una volta richiamo la vostra attenzione come la direttiva NIST e il GDPR non siano una last call siano una last call per noi per svegliarci per far passare finalmente la cyber security dal tavolo dei bimbi piccoli o quantomeno al tavolo non dico dei bimbi grandi ma quantomeno dei bimbi un po' più grandi perché ormai da anni veniamo visti anche se io non sono un informatico ma immeritatamente mi inserisco come avvocato specializzato in questo settore nella vostra grande famiglia veniamo visti come persone che parlano di cose che non servono non è più così oggi parlare di cyber security significa parlare della solidità di un'azienda e della solidità e del mantenimento dei suoi posti di lavoro parlare di cyber security significa parlare della protezione della nostra parte più intima parlare di cyber security significa parlare della sicurezza nazionale di un paese e della crescita economica delle aziende quindi della crescita economica e della stabilità economica di quel paese questa è oggi la cyber security se non ci svegliamo e allora questo è il last call e se non cerchiamo di far capire fuori da questi circuiti che questa è la realtà delle cose noi continueremo a permettere a loro di vederci come quei bambini grandi seduti al tavolo dei bimbi piccoli questo non è più accettabile a mio avviso e su questo io vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per le vostre domande se ci sono io collego un attimo quindi adesso sono nello strano situazione in cui devo presentare me stesso e moderarmi per cui cercherò di ringrazio Stefano Mele per questa parte sugli aspetti giuridici io credo che sia diciamo sia fondamentale parola di questo e soprattutto io penso quando diciamo questa cosa che hai detto alla fine c'è il fatto che la sicurezza viene sempre vista cioè fino a un certo punto viene vista come qualcosa di superfluo in più o fastidioso io dico sempre pensiamo a quello che è successo nella sicurezza non so la legge sul casco per esempio quando è uscita la legge sul casco ti ho detto ah c'è stato un fastidio no però finché era uscita quella nessuno usa il casco in moto eppure adesso diciamo sembra normale e ha salvato chissà quante vite questo c'è l'airbag che diventerà obbligatorio per le gare di moto cioè in qualche maniera la sicurezza arriva sempre dopo come un fastidio e come una però poi ci si accorge che è utile e cyber security è la stessa cosa alla fine il punto è che sappiamo benissimo che se noi facciamo patch a posteriori il livello di sicurezza non è lo stesso di averlo by design e quindi è un discorso molto importante ma la parte normativa è fondamentale insomma è chiaramente un aspetto fondamentale allora se riesco a collegarmi ho perso è qua ecco vediamo se parte benissimo mi metto anche un timer visto che mi devo automoderare però semmai bloccatemi eccoci qua allora quest'ultima presentazione che farò appunto io si focalizza un pochino sulla parte di formazione quindi ho preso un po' questo ruolo come accademico e sui nuovi profili professionali di questo io diciamo non ho costruito un elenco come vedrete ma anche dalle presentazioni precedenti cercherò di 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 cogliere alcuni spunti soprattutto anche da questa l'ultima parte sulla normativa che già avete visto nelle slide che richiede figure che è anche difficile capire esattamente che cosa sono cioè non ne parlerò perché in molti casi non mi abbianchiaro nemmeno che cosa debba fare quella persona sono figure veramente nuove che si stanno creando adesso questa è una slide solo di introduzione diciamo a me e al gruppo di ricerca come diceva il rettore questa mattina quello che noi facciamo come accademici e come gruppo di ricerca è fare un'analisi una modellazione della sicurezza dei sistemi delle reti usando metodi rigorosi e scientifici e in questo mi piace anche menzionare il laboratorio nazionale di cyber security che è stato menzionato sempre dal rettore per quanto riguarda questo progetto filiera sicura è un consorzio il Cine è un consorzio interuniversitario e all'interno del Cine è nato questo laboratorio che devo dire è la prima è il primo laboratorio che vedo di uno di questi consorzi diciamo che spesso sono dei cappelli vuoti che veramente funziona e ha creato cose estremamente virtuose quindi facciamo ricerca supportati a questo laboratorio organizziamo parlerò di una cosa in particolare che è la cyber challenge eventi ed attività coordinata a livello nazionale questo è una delle cose importanti che diciamo questa mattina ci vuole un piano nazionale non un piano strutturato sempre il rettore menzionava il discorso dell'hacking etico di questo vi parlerò un pochettino alla fine e menziono anche la spin off sempre già menzionata dal rettore perché credo che questo sia interessante cioè nel momento in cui noi facciamo ricerca anche accademica però la riusciamo a portare in una tecnologia che può essere usata dall'industria e dalle aziende credo che questo sia un valore aggiunto e come mostrava anche Stefano prima dove una ricerca che è stata fatta al Politecnico appunto sulla sicurezza dei robot industriali ecco diciamo ricerca accademica che diventa però un modo importante per migliorare lo stato dell'arte industriale quindi diciamo la cyber security è anche questo è un tema in cui la ricerca se volete anche teorica accademica e l'applicazione di questa ricerca sono molto collegate tra loro questo è l'esempio che faceva il rettore cioè una ricerca che abbiamo fatto qualche anno fa sulla sicurezza delle smart card e delle chiavette crittografiche è una cosa cyber fisica come diceva Stefano cioè è un oggetto che contiene una tecnologia software che però ha un impatto nella vita fisica se io faccio una firma digitale e questo ha un valore legale è chiaro che questa non è solo software ma diventa un qualcosa che poi mi può portare a delle sanzioni piuttosto che delle responsabilità e l'impatto industriale nel momento in cui questo l'abbiamo trasformato in un software che analizza questi sistemi utilizzando la ricerca quella cosa che vedete in mezzo rossa con tutte le freccette è quello che diceva il rettore il model checking cioè la verifica di un modello di un qualcosa e da qui posso proporre un rimedio quindi una tecnologia migliore allora questo fa sì che la ricerca accademica diventa un qualcosa che poi è utile nella pratica è utile a livello appunto del sistema paese e così via allora perché parliamo di formazione parliamo di formazione perché innanzitutto c'è come dicevamo questa mattina un utilizzo pervasivo crescente forse limitante pervasivo di quello che abbiamo chiamato cyberspace siamo completamente connessi il cyberspace è di fatto una dimensione nuova che si aggiunge alla dimensione fisica a cui siamo abituati e come abbiamo sentito più volte dobbiamo affrontare la criticità in termini di sicurezza dei sistemi informatici delle retti quali sono gli aspetti fondamentali che riguardano la formazione allora non pensiamo a formazione come solo quella diciamo di un corso di laurea o di un di un corso di un master per esempio la prima cosa è la consapevolezza e questo è il primo punto e forse anche uno dei motivi per cui ci troviamo per cui organizziamo questi eventi innanzitutto parlare di questi problemi e renderci consapevoli dobbiamo rendere consapevoli i cittadini che una mancanza di attenzione nel mondo cyber in realtà può avere conseguenze molto fisiche molto importanti pensate anche non so al cyberbullismo a fenomeni che sono completamente svincolati dalla tecnologia ma fanno parte della sfera social diciamo questa pervasività delle social network che fa sì che io posso portare a conseguenze molto gravi un insulto una qualcosa di catagolato etichettato come bullismo su una social network questo chiaramente è qualcosa su cui dobbiamo educare educare anche i bambini i ragazzi e non siamo nemmeno capaci perché diciamo loro conoscono meglio di noi la tecnologia io sono stato a incontri su questo io ho dei figli che sicuramente capiranno o utilizzeranno le social network molto meglio molto di più di quello che posso fare io e quindi è anche un problema che noi non siamo nemmeno in grado di comprendere fino in fondo io non saprò mai cos'è il cyberbullismo non ci finirò nel mezzo mentre i miei figli sì e poi promuovere la cultura della sicurezza cyber sia nell'educazione di base quindi anche nelle scuole a tutti i livelli ma soprattutto ne parliamo qua della parte professionale e universitaria il discorso di aumentare la consapevolezza è un problema importante io qui vi ho messo sempre un esempio che riguarda quello che facciamo noi ma ce ne sono tanti una cosa che sta venendo fuori negli ultimi anni nell'ambito sia diciamo accademico ma anche semplicemente di community di hacking è far venire fuori i problemi cyber cioè c'è un po' una tendenza quando c'è un problema di sicurezza informatica a tenerlo nascosto a non condividere però sappiamo che la normativa adesso ci obbliga per esempio a comunicare un problema di leakage diciamo di diffusione di dati personali questo è importante perché diciamo fare quello che si chiama security by obscurity cioè io ho un sistema che è sicuro ma semplicemente perché lo tengo chiuso e non dico a nessuno cosa faccio con i dati o se c'è un attacco non è è stato dimostrato che non è una buona idea ok per esempio posso rubare una macchina perché c'è il cavo che passa dentro il fanare questo diciamo era meglio saperlo prima e togliere il cavo da quel punto là piuttosto che farsi rubare non so quante automobili questo è uno strumento che abbiamo fatto potete provarlo è gratuito si chiama discovery semplicemente mettete un url e vi fa l'impronta diciamo vi da una valutazione del rischio ma non a livello non leggibile da un informatico ma diciamo scritta in inglese quindi leggibile da chiunque se in quel sito la criptografia perché noi lavoriamo su questo può avere dei problemi voi sapete quando vado in HTTPS c'è una componente criptografica ci sono stati una marea di attacchi su questo negli ultimi anni questo tool vi dice sostanzialmente se quel sito il vostro sito quello che è può avere delle vulnerabilità legate alla criptografia questo è non banale da fare e soprattutto senza uno strumento del genere anche un tecnico ma soprattutto un non tecnico non ha assolutamente l'idea di qual è il livello di sicurezza criptografica di un sito web perché io il protocollo che sta al di sotto lo posso configurare in milioni di modi diversi posso avere versioni attaccabili il particolare algoritmo criptografico non particolarmente sicuro la dimensione della chiave tutte cose che diciamo sfuggono anche a chi è esperto quindi avere modo di rendere visibile rendere quasi fisico visibile un problema cyber che di per sé è un po' sfuggente è una delle cose importanti è una delle cose su cui anche lavoriamo in ambito accademico questo io l'ho riportato è una delle tante immagini mi fa piacere anche riportarlo perché abbiamo anche una collaborazione molto forte con Isaka però diciamo ne trovate tantissimi ma è semplicemente una slide motivante ma molto vera che vi dice che c'è un gap stiamo parlando di formazione no? un enorme divario tra la richiesta la necessità di figure professionali che lavorano in ambito cyber security e in effetti le figure che esistono cioè quindi le persone in grado di lavorare in quest'ambito e la richiesta da parte delle aziende da un lato avete le minacce le minacce che sono tantissime billions quindi miliardi i danni che sono un'unica minaccia può creare danni per milioni di dollari e per esempio Stefano ha parlato di APT attack questi attacchi diciamo magari organizzati a livello di nazioni si parla che una organizzazione su quattro ha sperimentato ha avuto contro i propri sistemi un APT attack abbastanza inquietante quindi le minacce sono in crescita dall'altra parte è in crescita ovviamente la richiesta di persone che sono in grado di soddisfare di provvedere a questo quindi di mettere in sicurezza i sistemi di analizzarli di fare un piano che sia importante si parla di fino a 2 milioni di professional cioè di esperti che verranno saranno mancheranno nel 2019 2020 con un rate di crescita del triplicato negli ultimi anni quindi questo ci fa capire che da un lato dobbiamo sensibilizzare i cittadini comunque al problema della cyber security d'altra parte dobbiamo anche far capire ai giovani che questa professione è un investimento alle aziende serve e tra l'altro è anche vi farò vedere anche divertente in qualche maniera dal punto di vista tecnico e non c'è però la percezione evidentemente da qui vedete che non c'è la percezione che è qualcosa su cui investire né da parte dei ragazzi giovani e forse a volte nemmeno da parte delle università che creano formazioni su argomenti sbariati in realtà in Italia la situazione grazie anche al laboratorio nazionale ci stiamo coordinando non è così male dal punto di vista della formazione universitaria perché ci sono diverse lauree magistrali in sicurezza informatica o indirizzi in cyber security qui a Venezia abbiamo per esempio un indirizzo ci sono dei master primo e secondo livello quindi iniziative più legate alla professione più legate a un titolo che va speso direttamente in azienda su sicurezza cyber crime governance anche a livello di dottorato di ricerca quindi di diciamo formazione superiore ci sono iniziative per esempio qui a Venezia abbiamo un accordo internazionale abbiamo un accordo di dottorato internazionale con l'università della repubblica ceca c'è un gruppo di sicurezza che lavora anche loro su criptografia e abbiamo dei dottorandi quindi studenti già laureati che fanno ricerca su cyber security in uno scambio in cui diciamo lo studente lavora un po' di qua e un po' di là quindi questo crea come dire chiaramente è virtuoso dal punto di vista della collaborazione il laboratorio nazionale Cini quello che vi menzionavo prima si è offerto di fare un po' da finestra su queste iniziative tra l'altro mi sono accorto che quelle di Venezia per qualche motivo non c'erano adesso se andate sul sito non le vedrete ma in realtà verranno aggiunte l'ho guardato per curiosità e per sbaglio non sono state inserite una cosa di cui abbiamo parlato è il fatto che la cyber security sia trasversale qui ho messo in maniera molto sommaria in questa slide il fatto che c'è una parte scientifica pensata alla matematica alla fisica o alla parte più scientifica dell'informatica e dell'ingegneria c'è sicuramente un ambito tecnologico informatica e dell'ingegneria telecomunicazioni ma soprattutto la cosa nuova in questo tipo di in questo campo nuovo è la parte l'ambito completamente trasversale giuridico abbiamo sentito prima ma anche sociale ed economico analisi dei dati organizzazione aziendale chi è che mi fa la policy di gestione della privacy in un'azienda abbiamo parlato di data protection officer giusto che credo che sia una figura professionale nuova o comunque addirittura un dipartimento nuovo un team nuovo che le aziende dovranno soprattutto quelle grandi immagino dovranno averne abbastanza corposo un nuovo team in cui ci sarà una nuova figura professionale che necessariamente deve capire la parte giuridica la parte organizzativa probabilmente qualcosa di statistica perché se devo operare sui dati devo capire se i dati in forma aggregata posso utilizzarli oppure no ma dovrà anche capire come questi dati vengono gestiti dalla nuvola dal cloud dai sistemi se vengono cifrati quindi dovrà avere veramente una formazione completamente trasversale un'altra figura di cui parlavamo questa mattina è a livello per esempio di assicurazioni come faccio io ad assicurare il rischio cyber cioè qual è la polizza assicurativa giusta per un'azienda piccola ma anche grande che ha un sistema informativo più o meno complesso come faccio a sapere quanto far pagare a questa azienda in caso di attacco cyber allora io so appunto è stato detto da più persone che lavorano in assicurazioni che le assicurazioni si stanno veramente stanno investendo stanno aprendo nuovi dipartimenti che fanno esattamente questo però lì capite che ci vuole una persona che capisce la parte tecnologica perché deve capire lo stato dei sistemi ma deve essere in grado di valutare il rischio ora se voi prendete un mio studente di informatica e gli dite vai a valutarmi il rischio in soldi di un attacco non è una cosa che sa fare gli devo dare una base di economia una base di statistica sicuramente forse anche organizzativa perché se un'azienda si organizza in modo tale da reagire in maniera anche magari riproattiva ma di reagire al rischio cyber in maniera efficace è chiaro che magari io in quel caso posso valutare il rischio cyber in maniera diversa da un'azienda che è succube completa o magari non si accorge di essere stata attaccata quindi questo prescinde dalla parte tecnologica quindi questo apre un ventaglio diciamo di nuove professionalità che sono nuove completamente diciamo diverse ma e anche per questo difficili forse da comprendere fino in fondo non sappiamo nemmeno bene noi cosa uno potrà andare a fare ma di sicuro potrà andare a fare cose molto diverse questa ultima parte della presentazione vi volevo parlare di didattica innovativa credo che questo sia importante e mi fa pensare anche all'esempio che ha fatto Stefano dello spazzolino bluetooth dove di fatto io sono anche più vecchio di lui eravamo abituati a un certo tipo di incentivo disincentivo però come sapete i giovani sono più esigenti dal punto di vista di quello che gli viene offerto e a livello didattico assicuro che è molto cambiata io insegno insomma da più di vent'anni la didattica è cambiata perché comunque ci troviamo davanti a ragazzi che devono essere stimolati se volete anche di più di prima devono trovare passione nelle cose che fanno in maniera anche più più variegata con strumenti nuovi quindi la didattica innovativa richiede strumenti e metodi nuovi sicuramente una particolarità è che se io faccio una lezione come diciamo prima tutta teorica mi metto in cattedra dopo venti minuti ho perso più o meno tutti devo giocare tra la teoria e la sperimentazione che a me diverte però diciamo non è così ovvio e quindi c'è questo learning by doing cioè io ti faccio far qualcosa ed è una scusa per imparare un concetto o per prendere una competenza e di questo vi farò dei piccoli esempi fra un attimo però la didattica innovativa deve anche essere sul territorio e legarsi in qualche maniera all'industria cioè deve essere un qualcosa che chiude il gap che c'è fra la laurea puramente accademica e poi la professione che vado a fare perché anche questa è una cosa che serve che viene richiesta che a mio parere è utile e in questo senso vi volevo parlare brevemente di due cose una è l'hacking etico ne ha parlato prima le ha accennate entrambe il rettore con queste cose che si chiamano cap to the flag queste gare di hacking e l'altra è la cyber challenge che è un'iniziativa sempre basata sul discorso dell'hacking etico ed è appunto supportata dal laboratorio nazionale e ve ne parlo perché diciamo sta accadendo adesso è una cosa su cui stiamo lavorando in questo momento adesso la mia presentazione diventa più cool come direbbero perché l'ha fatta in realtà Marco che essendo più giovane di me è più bravo di me a fare queste cose quindi le slide sono migliori non perché le ho fatte io meglio ma perché le ha fatte qualcun altro questo è un capture the flag cioè una gara di hacking internazionale in questo caso organizzata da Facebook questa è la piattaforma di Facebook c'è scritto anche Google perché in realtà anche Google l'ha organizzato uno questo è per dirvi che questo tipo di competizione sta diventando un business serio perché aziende come Facebook e Google ci investono e stanno creando le loro piattaforme per farlo perché diciamo un capture the flag poi vi dico meglio che cos'è è interessante intanto è educativo è una di quelle cose che vi dicevo prima io imparo qualcosa facendola ok io devo vedrete risolvere delle challenge oppure attaccare difendermi e facendo questo necessariamente devo imparare ok è una forma di educazione attiva di active learning e come dicevamo prima perché diciamo questo è più legato alle aziende perché le aziende investono su queste cose perché come dicevamo prima servono persone brave su queste tematiche e un modo per invogliare ragazzi giovani a investire in questo è chiaramente offrirgli dei giochi delle attività che loro possono fare per interessarsi alla materia quindi si va poi diciamo a cercare di colmare quel gap che dicevamo prima ho messo delle foto di team questo è il nostro le ho messe applicate per far vedere che sono ragazzi giovani a parte me diciamo sono ragazzi giovani studenti laurea triennale piuttosto che laurea magistrale c'è anche una una giusta foto di Tauro che sono il team del Politecnico devo dire Politecnico ci ha ispirato molto in queste cose loro siete stati fra i primi i primi i primi in Italia i primi in Italia sono stati il primo team italiano e quindi sono stati un po' la nostra guida poi dopo come dicevamo prima adesso ce la giochiamo e questo questo che si chiama The Roman Exploit questo è un team che si è formato l'anno scorso tramite questa iniziativa Cyber Challenge di cui parlo nelle ultime due slide sono ragazzi giovanissimi che l'anno scorso all'Università della Sapienza di Roma sono stati allenati per tre mesi tramite un corso intensivo a fare questo tipo di attività poi hanno formato una loro squadra giocano ai CTF internazionali e ne hanno anche vinto uno cioè questo per dirvi ragazzi che non erano esperti di sicurezza ma tramite un'iniziativa di formazione mirata si sono talmente appassionati che poi sono diventati anche loro una squadra e questo diciamo è se volete vi ho messo le foto perché da qui capite che questi ragazzi stanno imparando facendo una cosa che è completamente diversa da stare in un'aula e sentire ma è che parlo ok imparano in modo completamente innovativo e a volte anche autonomamente questa è una delle componenti dell'active learning cioè io ti do l'input e tu studi le cose te le impari poi ci rivediamo e in qualche maniera tramite lo scambio ti do un ulteriore stimolo e così si va avanti questo è sempre una cosa un esempio preso dal Polimi è un esempio di CTF Geopardy che cos'è? è una una gara di hacking appunto in cui ci sono delle sfide cioè dei problemi da risolvere e vi ho messo queste etichettine per farvi vedere che gli argomenti sono svariati si passa dalla criptografia steganografia all'exploitation quindi proprio rompere un sistema forensics ne abbiamo parlato prima cioè l'analisi anche legale no? di un'intrusione puramente programmazione web Recon è una cosa che non c'entra niente diciamo è se volete è una cosa trasversale cioè io devo riuscire a trovare un qualcosa nascosto nel web quindi usando motori di ricerca social network e quindi è quella cosa trasversale che dicevamo prima la capacità di usare i dati in modo in modo diverso in modo in modo utile l'altro quindi da un lato sfide da risolvere problemi molto pratici da risolvere dall'altro quello più complesso attacco e difesa in cui ogni team ha un host quindi un computer che tipicamente è virtualizzato ma questo ha molta importanza contiene servizi e contiene vulnerabilità questa è la simulazione di una sistema reale che come dicevamo prima tutti i sistemi sono vulnerabili in cui ci sono vulnerabilità di solito più complesse di quelle che si trovano nei sistemi veri perché perché vengono inventate da chi queste cose le organizza e la barra diciamo di skills richieste si sta alzando in maniera incredibile cioè trovate vulnerabilità che sono state pubblicate pochi mesi prima su articoli scientifici riprodotte dentro questi sistemi quindi bisogna essere veramente aggiornati su tutto qual è il gioco il gioco è fix a ribug ma allo stesso tempo attaccare gli altri e questa è chiaramente la parte divertente cioè tutti hanno lo stesso host quando io scopro un bug lo fixo il bug è lo stesso che c'ha lui e lo posso finché lui non l'ha fixato posso attaccarlo ok questo funziona con un meccanismo di flags e questo è il motivo per cui si chiama capture the flag praticamente c'è un sistema centrale che ha delle bandierine le bandierine sono dei numeri in realtà molto grandi come delle password se volete queste bandierine vengono messe nei sistemi quando io attacco il sistema di un altro perché c'è un bug gli rubo la bandierina e la bandierina è la prova se volete forense in qualche modo è la dimostrazione che io l'ho attaccato quindi quando io consegno la bandierina al check system questo mi dà punti quindi si tratta proprio di rubare le bandierine alle altre squadre chiaramente se io fixo la bandierina non è più rubabile ok quindi vedete che è la simulazione di una guerra se volete di una cyber guerra fatta su sistemi che sono sistemi veri cioè macchine con sistemi operativi veri con servizi che simulano applicazioni vere non sono applicazioni reali ma sono servizi che in qualche maniera simulano vulnerabilità che sono reali quindi qui diciamo il gioco è ovviamente anche una scusa per imparare a gestire un sistema proteggerlo i ragazzi che giocano a queste cose qua si sviluppano i loro tool di analisi del traffico di rete perché quelli esistenti non sono spesso in grado di gestire i gigabyte vi assicuro che qua passano gigabyte di dati in pochissimo tempo se utilizzate un sistema di monitoraggio della rete standard collassa quindi si sviluppano i loro tool per riuscire a essere più veloci degli altri team quindi siamo a questo livello qua e capite che in questa maniera io creo degli esperti di cyber security che non potrei mai creare in un'aula spiegando queste cose perché spesso sanno fare cose che io non so fare quindi vanno oltre io gli do l'input ma loro vanno oltre quello che si può spiegare in un'aula perché vanno sul campo è come dire io un laureato poi va in azienda e ovviamente impara una serie di cose che non sapeva e che puoi imparare solo in azienda quindi è proprio andare in quella direzione là chiudere il gap tra la teoria e poi le competenze pratiche che servono questo qui l'ho messa è la finale in Russia di uno dei CTF più importanti d'attacco e difesa che è il RU-CTF questa è è una hall a Icatenisburg in Russia e quelle che vedete sotto sono le squadre che giocano ci sono i Cookies ci sono i Tower of Honor di Milano avevamo due squadre italiane in finale nei primi dieci che sono andati in Russia a giocarsi la finale e sono su cioè vedete la location per dirvi diciamo l'importanza che è data all'evento quindi immaginatevi anche la sponsorship e siamo in Russia e loro dovevano attaccare in questo caso gli host non erano virtuali ma erano dei dei Raspberry Pi e ognuno vedete lì al centro con ognuno col suo servizio in rete e questa è la squadra nostra con i loro laptop che dovevano cercare di capire cosa fanno questi servizi attaccarli e fixarli e attaccare quegli altri perché tutto questo era in una VPN in una rete che girava localmente e vabbè diciamo le cose richieste sono sono varie questa foto l'ho messa perché è un seminario che uno dei ragazzi del team fa agli altri ragazzi del team cioè vedete che a un certo punto la la formazione si auto alimenta cioè loro stessi si insegnano delle cose fra di loro in maniera strutturata come farei io ma lo fanno autonomamente facendo dei seminari tecnici sulle cose che hanno imparato e questo per me è bello cioè fa capire quanto si sono appassionati alla materia al punto tale da diventare insegnanti di loro stessi ok questo qui secondo me è il massimo che si può raggiungere con la formazione due parole sulla cyber challenge perché credo di essere già sui miei 30 minuti è un'iniziativa nazionale che coinvolge la tua università cyberchallenge.it se volete vedere avere più informazioni vabbè questa è la lo scopo dell'iniziativa è di andare a trovare questi 10 ragazzi che saranno la nazionale di hacking per le finali organizzate da Enisa in Europa quindi sarà la nazionale italiana che va a difendere diciamo l'Italia l'hacking italiano in Europa quindi tutta l'iniziativa volge a selezionare questi 10 ragazzi che vi assicuro che sono quelli dell'anno scorso erano brillantissimi perché sono stati selezionati tra migliaia di interessati questo era un po' lo spot che abbiamo fatto sono ragazzi fra i 16 e i 22 anni quindi ultimi anni delle scuole prima dell'università con un po' di background diciamo informatico ma non così non così obbligatorio soprattutto gli chiedevamo di essere appassionati good listener e curiosi creativi dinamici quindi vedete queste skill trasversali la voglia di imparare una cosa nuova più che altro questo ha avuto un discreto effetto questa è la timeline vedete che le iscrizioni si sono chiuse da pochissimo 20 gennaio e gli iscritti sono 1886 cioè come un corso di laurea in economia di quelli che non sapete dove metterli nelle aule cioè questo non è a livello nazionale ma sono solo 8 università e da questi ecco finito le selezioneremo 160 quindi meno del 10% faremo questo è il test di ammissione che vedete sotto del 1 febbraio tra marzo e maggio gli faremo un corso full immersion su sicurezza e poi di questi faremo di nuovo una competizione di hacking per poter scegliere i migliori che diventeranno la nazionale quindi da 1886 arriveremo a quei 10-15 non so quanti saranno nella squadra che andranno nelle finali quindi potete cioè vista la selezione potete immaginare poi il livello di questi ragazzi qua però in ogni caso a 160 ragazzi in gamba perché comunque già preselezionati faremo un training in cyber security serio e questi ragazzi molti di questi si appassioneranno alla tematica anche se non riusciranno ad essere nella squadra nazionale magari molti di questi rimarranno nei vari team locali vi lascio concludo con questa slide cyber challenge dove vi ho messo anche i riferimenti ho messo anche Marco che l'ha seduto lui è stato e sarà credo l'allenatore non si sa ma è stato l'allenatore della nazionale quindi sono molto orgoglioso del fatto che un mio ormai ex studente lui è già un giovane ricercatore è stato appunto l'allenatore della nazionale è stato scelto per allenare quei ragazzi che avete visto nella foto prima che sono andati in Europa e quindi è coinvolto fortemente in questa iniziativa questi sono i nostri riferimenti e come diceva il rettore c'è anche una parte molto importante di supporto a questa iniziativa delle aziende se vi interessa sponsorizzare l'evento potete guardare c'è un documento comunque scrivetemi perché poi quello che vogliamo fare con questi ragazzi è creare già un legame con le aziende per esempio dando accesso all'azienda ai curriculum dei ragazzi per poterli contattare direttamente ma anche alle aziende a scona della sponsorizzazione che faranno presentare fare una presentazione loro dell'azienda per esempio in uno degli eventi che faremo in cui saranno presenti tutti i ragazzi quindi quella cosa che dicevo prima di fare training già legandosi al territorio e all'industria e alle aziende è una delle componenti di questa iniziativa quindi creare cultura cyber portare l'accademia e l'industria più vicine possibili e provare a colmare questo gap che dicevamo di mancanza di persone appassionate ed esperte di questa tematica che sappiamo servire a livello di industriale e a livello se volete sistema del paese con questo concludo vi ringrazio e contattatemi per ogni informazione aggiuntiva grazie anche di essere venuti grazie a tutti